celebrare la nostra infanzia come se fossimo una persona nostalgica no non lo sai per niente no guarda proprio zero quindi è un po' no no amore eterno vediamo com'è io vado a late game almeno se mi giuro se mi giuro e ma devi arrivare c'è late game dopo dopo sei mesi frate dopo sei mesi anzi sei mesi sei mesi cosa sono sei mesi dopo un anno di grinding mi fai missioni leggere il testo leggere il testo è cazzo ma mi hai letto una missione anche perché non erai in italiano il gioco se non mi sbaglio no non è mai stato italiano è italiano e allora comunque non lo leggevo le cose che va a fare un culo avevo dici anni bravo così si fa è giusto così non ho letto un cazzo di niente il mio amico era tutto esaltato perché vieni di qua facciamo questa missione andiamo di qua andiamo ad invadere sti figli di buttata in Valorant come cazzo si chiama vi qualcosa for story 3 kingdoms e 1 hero cosi era? non ricordo non mi fai fosse così buono sto caricamento buono il tetone è buono è un tetone è buono è un tetone è buono ok però ricordo la barra più doppia forse che il mio computer aveva uno schermo da con la serie schermi quelli proprio antichi beh il mio computer aveva uno schermo antico ovviamente quindi cioè non era stretto, non era in rettangolo, era più inquadrato il monitor che aveva anche io ce l'avevo messo in uno e non ti vedo la e non basta giochini sulla stima per vedere che cazzo stai facendo ancora 2% 6 cosa vuol dire? ci ho messo un secondo io e ti ho detto e dipende ma il gioco c'è e c'è diventerà come ottimizzato che il mio computer se la prende a mare se la prende su personale 4 5 guarda vedi vedi che l'hai offeso sei già dentro guarda stai già giocando da solo ma il problema ora è che io non ho mai creato cioè ero primo umano ricordo ancora i capelli quello quel capello proprio spazzolato oh senti dopo i coglioni fai umano fai una classe a caso e ti muovi ok però eravamo principalmente dei nani noi ma che schifo eravamo ossessionati come fosse cioè noi tipo gli MMO non riusciamo a prenderne un altro perché non avevano un nano così bello come in for story è pieno il nano che devo dire ma vabbè cosa fai il nano guerriero cioè è così ero la sciona nanetto però non mi guarda voglio vederlo meglio eh i gusti sono un po' cambiati è umano arciere però il primo personaggio primo primo era umano poi nanetto mi ha convinto sto mio amico che era fissato quella nanetto ma si fai i boh fai un fai un mago ti sei registrato però ah meno male ho infartato per un attimo frate c'è è incredibile com'è tutto bugato questa roba nera ma dico lo viene e perchè erano più piccoli i MMOI ah dici che quelle cazzo e che cazzo è qua? 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 ma quante c'avevi? vai eeeh eh tanto no no adesso stai leggerti tutto che schifo che cazzo è qua? avevo questo capello qua laghino colore laghinone fairy ecco questo capello avevo con l'umano come tutti è vero umano fra mi sa sa proprio che umano è è quello che si deve fare eh fai il grosso eh fai il pumpato ma bello se capello non mi piace questo umano però la fairy non mi convince troppo però aspetta guardiamo la fairy di nuovo se lo faccio cosi no questo è questo è heart attack questo è stai laghando a merda mi sa madonna quasi quasi stai laghando tantissimo non ti sento perchè stai laghando? ma che spada però no bro stai ma perchè? stai facendo schifo stai eccoci qua eccoci qua incredibile foto non riconosciuta io ti sento bene però hai senti? mhm eeeh boh per un attimo la gabbia merda quindi la gabbia merda quindi la gabbia merda ora si sta laghando ma adesso lo sento bene si adesso lo sento bene si no prendere missione no prendere missione la sigla la prendo perchè? vabbè dai ma no andiamo a uccidere le mostre basta come è solo questo perché si da conversazione con il generale Pion recruttando le truppe accetto finito recruttando recruttando di gabbing madonna santa guarda stai scheru guarda lò guarda lò che significa WTS? wanting to sell buy human race che significa? che cazzo è sto coniglio? madonna santa aspetta com'era? f5 f4 f3 oggi cosa? madonna santa guarda come fammi guarda come si gira è un lego è un livello fa non ciò deve andare cazzo quanto ma quanto largo su disco però perchè cioè non oh oh cioè boh sta roba sul disco è stanissima è che che impazzisce ultimamente aspetta che abbasso il popomozzo ci sono delle missioni in inglese sono state aggiunte da misa a coglionarsi ok ma trovo adesso nooo aspetta devo provare a far parkour qui dietro come sempre eccoci qua eccoci qua poi dove si andava? penso di qua no devo parlare con octopus cazzo è rosemi tipo legenda le taylor no 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 tutto fluo lui ok generale pion da quanti anni perché avevo questa ascia la sua ascia avevo che era un sogno per noi imb Glass ma non ti leggerò mai, completely dobbiamo parlare con Octopus, Rosemino, ma i cazzo tu fanno, scusami conversation? no, io ho re-unband si si, dove parli con questo anche sta spada avevo, madonna mia, che è presente di Ichigo, cazzo adesso ho un'arma, giusto? inventario, eccola lì ma... io mi son già perso, ma cazzo si faceva, scusami stupendo, cazzo Rosemino l'ho trovato, eccola qua welcome to four story class orlando cerca orlando, bro orlando come se siano con Octopus, Rosemino non fa scusami Rosemino... non puoi mettermi l'iconcino? ma poi c'erano una volta, mi sembra no c'erano un... c'erano un... ah, orlando, orlando, provato orlando dov'è? all'entrata ma non c'era tipo un... uno sprint non mi ricordo male eh... no c'era con una classe, tipo con delle classi, c'ha una skill Octopus ma che cazzo di nome è Octopus eh... dov'è il Rus orlandone? eh... d'altra parte d'altra entrata ok cos'era F1 spiego da skill Sixth Sense mi chiede pozioni dai ma devi correre amico mio, devi correre troppo lento ma così faceva giocare così? no si faceva, si faceva no no, era un fuori di testa fantastico droppato il primo giorno accept via tanto non legge niente e guarda io ho il tempo di così bere mangiammi un panino ma soltanto da da passare da un NPC all'altro come si fa a non mostrare questo casco inguardabile? non lo metti dai, guarda si, se fai parla con tutti per darmi dei pezzi armature vado a questa fontana di merda infatti ci sono già salite io c'è la vita proprio ci abbiamo speso che cazzo si fa? ma io non ti aspetta è ramo di draghi tipo a fare carcoro no non ci riesco dammi la gonnella ma questa devo accettare cos'è? il mio deposito personal premi M ha 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 mamma mia meno zoom ma zooma fuori 'Minson fuori vada l DLC le trasferte üh per andare a invadere Ci sono cose che io non conosco comunque, cioè cos'è? Colossus Mountains, cioè non sono mai stato, eh Dracon Road ci sono stato, Nedzak ci sono stato, qua ci sono stato, Highlands ci sono stato, Mirror non lo so, Markwood sì Aspetta una cosa, è la mia amicetta, va? Cazzo, fai, devo rivederla tutta, va Allora, seguire, vai, ti seguo Ah sì, vanno, si va a chasse, per cazzo Aspetta, che devo togliere, game, move, showmast, showplay and name, showmast Aspetta, ah, invito Aspetta, se non si può fare, no Hide, clock, hide, man Che cazzo si fa, hide are Che vuoi fare? Voglio nascondere l'elmo Non puoi vederlo dopo, no? Per farlo adesso Quando devo vederlo dopo? Dopo qua? Dopo che iniziamo a giocare Speak, play, accept Speak, play, accept Aspetta, facciamo così Così, così Così Ehm Che ti devo dire Ma io non so nemmeno come si attacca più Ma io non so nemmeno come si attacca più Ehm Come si dice Che Che gameplay movimentato Ehm Vince Incredibile Hai vinto tu? Si Bravo Incredibile skim Vieni un attimo dove devo fare un testo Spesso, spesso No, no, vieni un secondo, vieni Fammi completare Importante Ah, mamma Sei pezzata poco, andiamo lì Intanto ci mandano ora Ma io ho conversation with... Reamings A parte che in inglese Ehm Sto cazzo di cane Sto cazzo di cane Ehm Ho Ho una missione finita Ma cosa vuoi fare? Off the batto Conversation with Reamings Ehm Poi comunque è in inglese Non lo so Così Puoi tagliare un po' in inglese Per farti E sto Coso Un po' Ma l'hai fatta? Reamings dice Devo parlare con lui Reamings E di chi è? Cazzo non so Off to the batto L'immagino sia quel tipo qua giù No? Bene Ma è strano perché è in inglese Non è in italiano Ma perché dovrebbe essere in italiano? E tutti gli altri erano in italiano? Ah te? A me no Tutto in inglese Ehm Ehm Grazie al cazzo Posso dirtelo Mamma mia Mamma Quanto tempo abbiamo passato qua giù Ah dove siamo? Ehm Reamings è così Infatti è là Aspetta aiutami Non ho una palla Fantastico Eh ce la fai no? La fai Sì Eh però facciamo un po' prima no? Ma comunque è bello il combattimento Sì Ma l'exp Andi vi sta fermo Eh sì sì No All'ultare quanto ci mette? Ma sta andando velocissimo però Come attento Non mi ricordo che sia così veloce Uh Livello 4 Ma come livello 4? Forse è normale Eh mi sa di sì Come si luta? Meno luta Ehm Click destra Non mi luta Forse è che ho non uscito io Ah doppio click Doppio click sinistra Ah sì Doppio click sinistra Hanno velocizzato le animazioni credo De combattimento Non era così veloce Aspetta che ne rubo uno Cioè portaremo uno giù No dai era così Fermo non ti chiaro più Eh non so come si fa a fermarlo Cioè non so come fermare gli attacchi Ah no quasi dovevo uccidere Eh sì Però come lo fermo gli attacchi Non mi ricordo Non lo so Fate le leggo Riduci i mostri in schiavitù La skill si chiama Ma devo dire Ma stiamo scherzando Ma stiamo scherzando Ma stiamo scherzando Ma stiamo scherzando In che senso? Vai a farlo No devo cercare il cooldown No spero non cercerlo cercerò Eh sto more E non va Ci si può fidare di te E non va E anche tu Allora Cadavro è un mostro Il livello deve essere inferiore rispetto a quello Del proprio personaggio Lo è? Necessa? Può fallire Forse per quello Ma è giocato Non lo so Guarda lì Level più 12 Paians Mithrill's Wound Voglio essere un mago o un guerriero? Ma questo? Ma no 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 Dunque qui è Reming Zone eh Tutti uguali Poi questi capelli Ti sefirot praticamente Sì Sì Il cielo Non ho mai guardato Pumacub Vai Si chiedono Sei stranzi Ma il cielo Non ho mai guardato F11 cosa faceva? Stanzi Dove si vedevano i buff? Stanzi Questo cosa fa? Un damage Però non voglio lootare Abbassarmi ogni volta Dio salto Che era un modo da fare più veloce? È Z Oh è comparso Oh frate Ah ok Che cazzo è successo? Ma che cazzo? Che cazzo è evocato Ah si è bugato C'erano quattro di loro Sì 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 Tipo ma... Mi sono morto È cascato dal cielo quel puma Ah sì Z Bravo Cazzo che è in memoria C'erano C'erano Non riesco Non riesco Non riesco a evocarlo Chain our battle gloves Eh evocato C'è questa roba che arrivano C'erano c'erano A livello 13 Ho preso dei buoni guanti A livello 13 C'erano? Cazzo che... Che bellezza C'erano 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 Sta sempre con te Ricordo che è una nuova Sempre Eh lo so ma mi sa che l'hanno cambiata Hmm Sembra strano Si perchè non posso evocarlo così da nulla Mi sa che l'hanno fatto tipo skill Nel senso l'evoca un attimo E poi Si sa compare Oh Forse vamo fare in tasa del sale No mi sembra strano però perché comunque c'è poi evocare il pume cazzo è tanto vale che me lo lasci anche cioè c'è ancora questo sistema di evocare qualsiasi mostro tanto vale che lo fai camminare anche accanto ma forse una scheda devi sbloccare ma non credo puma leather ma poi ne escono due perché ne escono due o tre e muoio ok allora forse hanno cambiato sì perché ne escono tre cazzo però che strano vabbè finché volevo evocare qualsiasi mostro che è figo lo stesso però sei tra di quelli giganti fa un po' ridere voglio provare cazzo vediamo vediamo come va ma poi posso spammarla all'infinito bello comunque si ma anche te ogni tanto fa tipo sai quando la televisione non funzionava e faceva delle frizzate a me escono due delle frizzate buon segno ma fanno velocezzato il combattimento dai è molto più lento e cosa skill f2 trovo next to your enemy si è una cosa di cosa ho bisogno abbiamo fin però boh così è troppo troppo lunga come già ma facciamo un po' il cazzo che ci fa io poi magari mi faccio un altro personaggio la faccio lenta se vogliamo fa veloce qua ehm si può perché di solito era cioè sarevi proprio di tanto un mostro a un livello un mostro a un livello cazzo questo coscio di cui non c'erano i werewolves c'erano i werewolves di qua a parte che qua c'erano i c'erano gli orsi si infatti però i werewolves non ricord si cioè comunque siamo saliti tanto eh siamo già alle 6 non so se è normale però è aumentato di poco si ma donano pochissimo sti cazzo di vocazione mi sai che sono indietro si ah non sono in qua non so mutated bear ah ecco i werewolves greedy werewolves cazzo anche qua si gruppava che è una bestia uff vabbè vedo un cazzo fai un fast nooo che è piccolini non so loro che sennò mi fa qua mi ricordo che già comunque ti inseguivano un po' nooo però forse è che li gruppavano così tanto e sembra che ci seguessi andiamo solo a prendere i grivi vediamo un attimo una cosa vediamo un attimo una cosa vediamo un attimo vediamo un attimo come cosa cioè dipende se aumenta il livello aumenta anche il tempo in cui restano fuori a me piaceva di più cioè mi piaceva più l'idea di averlo compagno però io a me non piaceva quella vero lì che dovevo mettere skill come andarlo però c'è alla fine quello l'epoca l'epoca dell'epoca l'epoca ma tanta gente ma che cazzo è ma chi siete ma tutti i giochi bene che ci sono esatto no da poco s'altro c'erano questi pazzi si werewolf led ma sono tutti come noi ma però secondo me non so se il nostro gioco è vero ma sai sicuramente c'è la nostra già e comunque mi piace però i colori com'è? è comunque un bel gioco alla fine cioè sempre io sto giocando l'agonage no che a me non piaceva non ho mai giocato ci ho giocato pochissimo nel picco non ho nessun attaccamento però la grafica il mondo di gioco rimane comunque affascinante i colori come è fatto cioè quel gusto retro è filo c'è magari siamo focati mentalmente dal punto di vista cazzo è urlando ma fra qua di fronte alla strada apposta a quanto pare io a me sono accorto di niente però la mia coinculina mi ha parlato per una volta mi ha detto ma hai notato che c'era una fire cioè un incendio era una strada opposta proprio la casa opposta alla nostra completamente sciolta cioè scomparsa praticamente eh cazzo proprio davanti sai che poi la spagna non mi comparto continuissimo ah hai già fatto la missione quel puntino blu magico del party sì ma ci vuole è troppo troppo lento corre troppo nel chilling vabbè vediamo una mount un altro po' eh sì sì proprio è quello il problema c'è a miseria del cazzo giocare così le altre retro serve sono molto mi ricordavo che le mount diventasse di colore diverso no 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 dobbiamo andare qua quindi dove dobbiamo self sufficiency vediamoci eh no non c'è mi fa cagare sta roba delle mount colorate diversa eh no mi piace a loro magari si può prendere qualche modo non lo so guarda quelle stazionate vediamo vediamo nello shop mounts no shop non lo so ma troppo bella questa cazzo colpa a nove code dove stupenda cioè è proprio quella è proprio con c'è naruto eh ma non so come si prendono le pietre cioè ah sì si compra vediamo quanto costa però 599 quindi se voglio comprare mica che lupo gigante bellissimo sto un attimo controllando come compare che dici? non ah top up moonstone sai che c'è qua non ho proprio mancato immagino mi apriva una pagina web a un certo punto a un certo punto hai trovato dove dobbiamo andare con la missione? no beh magari non è così adesso davanti non c'è niente questo è probabilmente devo andare... non mi fa leggere il nome quindi non posso dirlo con certezza però dobbiamo andare sto NPC soprattutto un certo Brandel che non vedo che è qui ah ma c'è l'auto non c'è niente però c'è un NPC sopra in alto però c'è scritto il nome, c'è scritto l'assistant, c'è scritto prima cos'è e poi... e poi dal final not, sei pazzo no ma io lo sto mettendo a top up... ah ecco qua finalmente, è aperto cosa? eh lo store... codice di nuovo, sei impazzito, ma sei impazzito questa sicurezza... mi devi rubare oh no... farm and you, va bene ecco qua... no scrivi a uno dei sti minchioni con la mount e chiedi dove si prendono ahahahah vero? allora... lo controllo ok quindi se voglio fare purchase moonstones si aveva mi è arrivato un'email sei stato tu? no mi mando l'email cazzo è sta roba? eh cazzo lo so donation item show è stato rotto è sta roba non ho capito ah... daily login login reward mi ha dato qualcosa a me è arrivato oh ce l'abbiamo dietro se vuoi scriverli ehm... ok aspetta vengo chiediamo sto cuoio hello ho chiesto ho chiesto questo suono cazzo come diamo i messaggi per dirci eh guarda un altro proprio lupone no ma dai è sul livello basso comunque a me lo sta seguendo però lo sai? cioè perchè lo seguo? vabbè io ho chiesto ma non mi ha risposto mi sa che no non so nemmeno come mettere la risposta o magari sono botto allora non credo purchase moonstones ah ecco qua eccoci qua quindi 5 euro 90 10 euro 210 25 euro 635 ah facciamo quindi 25 euro su 635 moonstones ok cosa ci vuoi fare? 635 moonstones ah 25 euro ti compie la notte ma non è neanche morto 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 eeeh poi ti compiare laaaaaa bello cazzo che cosa? lo chiama panda ma è tipo un procione è l'orso il tanuki quasi come mount ah può chiedere infatti ah è morto comunque il husky che sarebbe quel flupo è nello show go on redeem coupon on the website oh cosa? redeem coupon on the website mi ha scritto un prism cioè penso sia un amico che ho scritto ho scritto mister blacchio e prism mi ha detto vai vai ma che armature che c'ho? chi è che hai fatto? che sto al 90? chi è? fai vedere? chi è? chi è? ah figlio cazzo guarda come giro ah mi ha preso intere ispirazione a fantasy mi fa bella ah che non ti ha detto quindi? un cazzo vediamo andrò a farmi foto vediamo ma è che sono tutti così cattivi? rosso oh guardalo guardalo guarda la posizione da quando in qua si mette così? un mito? un grande? un eroe? xd eh si ho letto la gilda povero cristo che li stico a piedi ho ah oh Sì, comunque c'avevi ragione, era lì, eh, ma è impossibile. Aspetta un secondo, cazzo qua, cazzo qua, cazzo qua, cazzo qua, cazzo qua, cazzo qua, cazzo qua. Sì, ma è assurdo, sulla mappa non viene fuori scritto, ma stai scherzando? Eh sì, Nash, cioè, almeno non me lo ricordavo così però, poi da piccolino non abbiamo fatto. Ma faccio. Ok, sta uccidendo se mi aiuti. Sì, ma è un boss, comunque, mi dà 100 di vita, cioè, fuggi, fuggi qua. 71 di vita, frate, via, via. Ok, morto, si guarda. Posso prendere, no? Quindi questa... Di sta dì. Mi sta spiegando un po' di cose, avviene un po' qua. Ok, sta... Perché? Hai preso la missione? Aspetta... Hai preso la missione, così inizio a fare la... Sì, l'ho preso, l'ho preso. Perché non mi fa mettere? Ah, hai aperto il coso livello 5? Sì. Ecco, se apri il coso livello... Cioè, fai dati ogni 5 livelli. Come fa questa persona a sapere cosa sta provando a fare? Non ci è passato anche lui. Ma non sta leggendo... Stai guardando la live, questo, cioè... Non ha senso quello che mi sta dicendo. Ti giuro. Tipo. Aspetta. Aspetta. Se l'animale c'è... Madonna, non sto scioppone. Ma cos'è sta roba? Fidissimo. Fidissimo vuoi scambiare oggetti con te. Mi sta andando della roba. Vabbè, lui è lui che ci sta praticamente. Mi sta aiutando. Comunque volevo mostrarti, volevo farti un po' di flex. Ah, vorrei te le dare anche con me. È un grande questo. Quest XP? Ah, 150%. Non so se voglio già... Tu stai scherzando, vero? Mi stai prendendo per il culo? Cosa? Hai accettato? Sì. Non sai se vuoi dire quello che stavi per dire, perché è stato picchio. Eh... Tu vuoi stare qua da 20 anni qui, dicendo? Ci sto pensando. Ma va, va. No, va, va. Mi ha fatto vedere una roba incredibile. Vai, va. Allora. Aspetta. Vai su sito. E vai nel tuo account e fai redeem coupon. Non usarla ancora quella potion, perché mi ho appena chiesto dove l'ha presa. Oh, ti ho chiesto di invitarlo. Ah, ma è lui, è quella Fiero che ci sta aiutando. Eh sì. Comunque è lui che mi sta scrivendo e mi ha detto appunto, metti questo redeem coupon, ti dà un casino di roba fortissima. E poi, per il secondo anniversario, ti ha chiesto di invitarlo. E poi, ha detto che la battle mod è dove prendere queste pozioni, ormai. Però lui c'è una pdb che abbastanza, ha detto. Beh, dobbiamo uccidere gli orsoni. Stai facendo il coupon, no? No. Allora. Sono entrato. Poi dove vuoi andare? Devi fare redeem, si, beh, account, redeem coupon. Manage account. Ok. E mi mette 4C. Non c'è redeem coupon, no? Coupon history? No, redeem coupon, no. Eh, dove? C'è redeem coupon, vediamo qui dietro. Account management. Vedi giù c'è purchase monstons, item shop, redeem coupon. Ah, oh, maggio. Vai in giù. Grande, si. 4, poi tutto maiuscolo, C, D, A, Y. C, D, A, Y. Mhm. Ok, e poi? Eh, basta redeem e poi vai nel gioco. Ah, mi sto chiedendo. E poi? Redeem, quindi c'è, fai invio e poi vai nel gioco. Eh, vai nel gioco? Nel gioco c'hai il basso, c'hai lo shop a sinistra, a destra c'hai la chest. Apri quella chest. Alla madonna, non te rogo. Eh, sì. Eh, sì. Volevo fare la flexata, il monstart all'improvviso, ma bisognava fare delle missioni per fare... Per mettere la... Per mettere la... L'ascia per me. Tu forse già puoi mettere... Oddio! Ok. Cosa? No, tutto quanto era diventato come se fosse... Champions of Iberia. Cazzo è la testa, fai? È quello che ti dicevo prima. Cioè? Eh, non lo so. Ma scusa, ma quindi quello nel deposito è tutta roba mia? Sì. Cioè, ho anche armi tutti. Cioè, tipo la balestra. Sì. Vabbè, a parte che sono del 34, l'articolo arma, quindi non posso metterla. No, è... Lo chest è livello 1. Cioè, la rod. Quale? Dice livello 1. 34 è un'altra roba, mi sa. Ah. E la prendo? Eh, sì. Cioè, nel senso, la metti a prova e la metterla addosso. E non me la fa mettere? Perché dobbiamo fare delle missioni, mi sa. Non hai l'abilità giusta per utilizzare questo oggetto. Cioè, c'è ucciso anche il Wabber. Che grande. Che mito. Non cazzo l'ha fatto qua. Però... Come mai la gente continua a potenziare? Ma quindi la porzione che ci ha dato, cosa fa? Aumenta l'exp che prendiamo del 150%, però... Ma è il tempo? È il tempo, sì. Che merda. Eh, usiamo la nostra rubrica. No, no, spero. Io la tengo per un po'. Autocross di Prisma. Ehm... Aspetta. Ehm... Scusa ma allora chiedi ma che senso faremo un retro server se comunque è lento salire di livello? No, devo chiedere, ero sviluppatore No, beh, nel senso magari ci stiamo missando qualcosa noi Ah no, magari posso chiedere ma se può salire più di livello più velocemente? Cioè, ci sono dato la pozione e ci sarà un motivo Però, boh, è strano perché, scusami, ok? A parte questo codice che ti dà l'arma, se uno non sa il codice non c'è un cazzo, cioè è praticamente il gioco normale Boh, tu non è meglio così però, se vuoi giocare il gioco normale lo fai, se non lo vuoi fare dipende tutta sta roba Sì ma non c'è le mount, c'è le robe shoppare, cioè è praticamente normale Entrava a un livello, prendi la mount Lo shoppare costa tantissimo Lo shoppare costa tantissimo Accetta, accetta Ma un po' di inventario no, eh? Vero, siamo proprio lì con le tasche piene Ehm, se faccio così, così Uh, eccoci qua Così l'ho messo? Asciona, mi può non capire Vabbè Ehm, questa roba invece, by one level Apprentice formula Ok Ok, eh, fermi tutti allora Se io faccio così Voglio un attimo capire una volta Cosa Ah 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 Ah, facciamo di skill, abbiamo 10 skill points cazzo Vabbè di utilizzarle forse Ecco quello Oh c... Your bags are full Si butta l'arbe Si risolve My bags are full My bags are full Beh comunque ci ha dato una vera Ostia Più B, non so cosa vuol dire Cosa che ci ha dato? Mi ha dato un'arma anche La... Con il buzzainetto Che abbiamo aperto Cioè a me non lo apri ancora Che ho tipo tutto figa Tipo buttare roba Ma non lo voglio buttare Ecco Caribu Pet's name Sofiella Ecco qua E l'arma è un bone axe Ha tirato qualcosa altro però immagino Si buona cosa l'ho venduta 23 map mission 1 Cazzo è? Secret document L'hai venduta? C'è Eh... adesso figlio anche la borsa Perché sono... Ci ha dato un'altra posizione Per migliorare l'esperienza Eh allora No Ah per l'esperienza no Quella... Sì 140% di esperienza Per la prossima ora Ah ok A livello 20 C'erano 15 invece c'è un'altra roba ancora per potenziare Aveteci dato lui per la quest però No allora Lui ci ha dato Quest xp Si Che però dice... Ah solo quest xp è un casino E se siamo entrambi? Eh immagino per i mostri Aspetta che... Questa cosa fa Che livello deve essere questo qua? Livello 12 Vabbè io ho speso tutti i miei soldi per 4 slot in più ma vaffanculo 4 slot in più come hai fatto? Mi hanno preso la borsina piccola Io sto spendendo soldi per mettere i punti C'era? L'abilità C'è nuove abilità Che cosi fa? Ehm... Di aprire le skill tree Qual è? In basso a destra c'è la spadina Ok Allora una fa damage Vabbè ma... Vabbè ma davanti c'è una... Mi infilizza tipo... Scusami ma... Ma cosa serve se potenzio le mie creature? Che non le posso evoccare? Eh allora... Deve esserci mo' Ok A posto Io per ora tengo un po' questa ascia Però vediamo... Vediamo come va... Oddio... Quello è stupendo Ah dici che è troppo forte? Eh sai... C'è fortissimo... Shotterà tutto Eh vabbè... Cazzo... Che cazzo giochiamo a fa Capri? C'è... Cazzo giochiamo a fa Capri? C'è... Che cazzo giochiamo a fa se trompiamo tutto così... A prendere l'itgame? E quella mi interessa Eh ma tanto fa di fare... Allora andiamo su un'altra serve dove ci mette subito l'itgame Perchè fai un lit game, non capisco E proviamo quello che c'è da fare, PvP, due heli Le guerre, sai cosa possiamo fare? Andiamo magari, giriamo la mappa e andiamo a cercare dei mostri forti Che riusciamo a battere tranquillamente e farmiamo quelli con la pozione Sì, se puoi fare lo jump subito senza missioni, sì Werewolf led, Waffle closed, conversational breacher Ok, questi li shot Sì Giustamente Dobbiamo andare Ah breacher è quello là Sì Com'è? Tu hai preso le tue missioni? Sì C'è, solo... due Oddio i gremlin, ti lo sa Eccoci qua, un morto Qual era il tasto per aprire la mount? Non lo so, però immagino ancora quello con... P Si Sì 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 Anche di più suona Si Tan tadadadam Tan tan Follas Cioè non stiamo lì a prendere altre missioni Se diciamo Si ma penso la faccio da solo qua Ma sei fuori di testa Boh Mi fa voglia di Cioè che Allora Toh io l'ho lasciato il 40 Se vuoi lo riprendiamo alle missioni del 40 Ma ho messo fiume Si fa una sott'acqua Con la mount Si salta Sott'acqua si salta Dai dai andiamo andiamo Lasciamo un po' Facciamo una via di mezzo No tu tu fai come vuoi Ti segue poi se ho voglia di giocare In ogni rata old school la faccio poi Certiamo il boss dai Buon Oh una mail Madonna però che Che roba che tu facevi sta roba C'è cagato in mano che cercavi di schivarli Di non prenderli tutti Perchè Era un casino poi Morivi Ma io ho trovato Una roba per craftare A me non lo apre Favo open ma non esce Ehm Ehm Riding Quindi vabbè Scegliamo una mappa dove andare Allora Oh meglio Giro Giro Così guardiamo tutta la mappa Minchia qua c'erano stato una vita Sì I sigilli Ti ricordi i sigilli Più o meno Sì sì I sigilli ma ma che cazzo servivano Ah ecco E i sigilli erano le deli Ti davano più ex delle missioni normali Potevi rifarle all'infinito Ah è vero che io Cioè si farmavano quelle Anche io allo 40 Facciamo i sigilli Andiamo a fare i sigilli Così era Io ero tipo al 30 Ah qua è strano che ero al 30 Qua qua Non mi ricordo Aspetta vieni se me li fa Mi fa prendere anche questi Oh non l'ho shottato Cazzo Ma era con la belestra Ah ma hai colpi per la belestra Ehm Ehm Non li posso prendere Cazzo questa shaw io ce l'ho troppo Non sopra tutto Ehm ma allora era bellissima Ehm Ehm allora eh Fa cagare anche adesso Ah sei andato Prisman? Eh C'ha ignorato C'è stata Oh Mr. Black Ancora due Sì E ci ha praticamente ignorato E ci ha buttato da Prisman Sa come La gente è fluo Ma ne possiamo trasportarci il portale Senza dover tipo Toccarlo no? Sì 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 Ok Cazzo Dove stiamo andando? Allora io qua C'ero arrivato Ma siamo di qui Sì sì ma è stata mappa Si è fatta tutta Eh Piccolini Non so Ah di là si cambia mappa Cioè tu quale mappa hai visto? Eh adesso così non mi ricordo Cioè ti ricordi quella incendiata? Forse sì Cazzo assurdi sti mostri Prima che i mostri danno poco è exp Cioè Questi sono dei 15 Ma guarda Qua c'era un boss Se non sbaglio più in profondità Cazzo mi ricordo che ricordo le strade Anche fosse la mia città natale Guarda Andiamo avanti Andiamo più avanti E vabbè attacchi wireless Attacchi wireless Sì ero lontanissimo mi ha colpito Allora Allora Se si va a nord si cambia mappa No No ma ricordo che c'erano altre robe Altre robe ci sono Cioè è tutta qua giù E come trottiamo? Quale era il tast AR? Animazioni che Non sono così fatte bene No no C'è molta roba comunque in questa map Sì sì Però Dico Non C'è mappa inizia Quella è il colosseo con gli scale elettritico Mappa Questa è la seconda città mi sembra Seconda una cittadina Inizia ad essere già là di là Di cazzo Ah non ti buttano giù dalla mount Ok Eh Non ti buttano giù dalla mount Se ti colpisco Non credo Ma li attaccano gli NPC? No Non quello che cazzo Cazzo è la tua voca Perché stai salendo qua? Per ricordare Qua c'è una terra Antone dove si ci si buttava Aspetta Cazzo Ah no Cazzo Mi si c'entra sti figli di buttava qua dentro Ok scusate Sali 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 Fammi v... No Fammi vedere che cazzo c'era qui Mamma mia Ah è la prete di merda Che per me era un... Era un prete Ah ma non ci si può buttare Questo è solo dalle scale ci si può buttare Come scendo da stame Sali Sali Ma sono dalle scale ci si può buttare Però muoio bisogna buttare No Ok Sali 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 Io non ti dice da che parte vai se esci di qua Non che so Cioè se andiamo avanti non so che mappa andiamo Cioè se andiamo avanti non so che mappa andiamo Marco ti dice Non dovrebbe esserci nessun caricamento È solo... Ah si Mi sembra che si Semplicemente che cambia Bella sta montagna Allora la La texture bellissima È short Cosa sei? Porco Sì Proprio cinese Canyon Uso Canyon o non lo ricordo? Canyon of Secrets Sì io sì Ah Barak Madonna Cazzo Ah quanto tempo ci ha passato qui dentro Ah ma però qua mi chiedono Eh qua dobbiamo un ottimo Andiamo giù Andiamo giù Ah io Ah il critico mi ha fatto scendere dalla... Ma... Mi fa risuadire Cazzo tuoi Sono morto? Sei morto Sì infatti sei morto sei un corpse Eee Vedi cambia proprio la mappa così da un passo all'altro Proprio perché sei morto tu? Non lo so Non lo so C'è io ho superato e son vivo eh Vada vada proprio la linea a terra La linea a terra non la ricordavo Eh qua Ma è tutto buggato L'orizzonte è un pochino... Questa la ricordo ma non ci ho giocato tantissimo questa mappa qua Qua mi sa che ci sciolto Ah livello 43 Ci provo? Aspettami magari no? Vai Che dici? Questa non ha una buona idea Questa non ha una buona idea Andiamo via C'è il livello 43 E se ne prendiamo uno magari Se ne prendiamo uno magari Ah ma che brutta questa Mi piacciono tutte Guarda questo qua sembra tipo lo stelo di un borocco Si si L'avevo fatta male graficamente Nell'orizzonte a me è fottuto Si si è accaduto L'hai visto? Ah minchia Attaccalo tu io che tu hai attaccato lontano Scendiamo No ma tu guardi Sono caduti E' andata Oh si è resistito mi sa che lo chiudiamo Ma non si poteva scalare come... Oh merda Niente via via Niente via via No ma ci facciamo L'ho usciso Frate nooooo Sei una merda sei Mancava un colpo Dove sei esplorato? Ah qui in questa mappa Ma sei lontano? Ehm No ma Sto andando verso di te Ma posso mettere lei? Ok Si posso Fantastico Ci sono delle penalità no? Quando si muore Succede Attac stanza Io nooo Non credo Ma non è questo diverso Non mi fa Però si c'erano E beh però possiamo farmare easy mi sa Vediamo un po' Però l'ho ucciso uno non mi ha dato il tasto di spedio Eh no ti ho detto Uccidere non va un cazzo C'è è tutto solo missione sto gioco di merda Vediamo Sono morto no? Se Dovevamo fare le cose folli Raggruppare tutti Eh ma ci si muore Eh si Potremmo darci anche un'armatura figa no? Eh infatti eh Strano Forse c'è un altro redeem accanto Questo qui era redeem per il secondo anniversario Quindi Forse per il primo anniversario c'è qualcosa Chiediamo un po' qua C'è 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 un po' qua Guarda il mantello Oh no Oh no Via 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 Ah no Ah no Dove sei io? Cazzo è il tempo che ci siamo Come fa ad esserci tanta gente con i loro shop? Basta di scherzo no Use teleport Immagino sia Jesude Outpost Cazzo quanto costa devi trasportare? Abbiamo nemmeno i soldi per piangere Sì, ho provato Cznez Outpost Jesude Vai lì Vai No, vai a Darion Darion? Sì Dov'è? No, non solo Darion Darion è tutta la country No, vai a peace qualcosa Peace zone Imperium peace zone Sì Sì E poi vai Dove ti esce un'altra Dimmi i nomi cosa ti escono Ok Qua è questa zona? Qua non l'ho mai vista, mi so No, è nuova Usport Markut Islands Darion Settlement Quello, vai quello È gratis giusto? Sì Stiamo fottendo il sistema Uff 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 Mai vista Ma è roba ufficiale No ma Non lo so Ha fatto un po' Livello 90 fra Sarà un po' un casino Vai tocchiamo Eh ma aspetta Posso comprare dei colpi di balestra Tu e da te Mio caro signore No Vabbè Prova un po' E mi sa Ah ma mi si sempre No Frey ha colpito male Ha carezzato Mi sa che ci vediamo Via Via Cambio portale E' come si può fare In combattimento Vai Madonna santa Dove sei andato qui? E' qua Dove sei Sono dentro il giocatore Ok Ci sono nemici Nemici? Potremmo attaccare queste Eh si Potremmo attaccare Sono altre fazze A me non fa attaccare A me non fa attaccare Vabbè andiamo Torniamo a casa E E E da qua non lo so Però mettiamo un arcut Un'unica Forza L'unica Opzione che abbiamo E poi da qua si va E poi da qua si va A Iesode Iesode Eh Fabbiamo subito il gioco Che peccato Allora Però dai siamo veloci Killiamo tutto Dobbiamo fare i gremlin E i werewolf Andiamo a farmi i werewolf Nel chilling Direbbero tante persone Io no Ecco Devo fare il modo Di fare tanto le missioni principali Cioè Alla fine Non stiamo accettando Le roba a caso Accettiamo solo Dalla stessa persona Quindi Da un momento in cui Incominciamo a accettare cose in giro Allora si ci vediamo Come ci ha Poi non so se c'è scritto Indicato qualcosa La missioni principale Credo Di aiutare Non è questo però Non sono questi Però Sono werewolf Nooo Sono Lupe mannari Werewolf Non è Neanche quello Lupe normale È scritto Werewolf Werewolf Cioè Al di là di quello che è C'è lo stesso no Poi werewolf Lupe mannaro Comunque wolf è normale No Vediamo di qua Era qua giù mi sembra Sì Saranno Una volta che sono uguali Però più grandi Erano questi Sì Chiediamo il boss Io non ricordo di aver avuto una mount Un con full story No Ovviamente no Che costavano vero Sì Comunque Valorian aveva delle belle mappe Da co Attorno Tipo i campi Così così Più medievale Carino Ora che tu ci arrivi L'ho già killato di tutto Sì Vintor Infortunatamente non c'è più room In mio bag C'è meno Ma c'è lo spazio Ah per me da due jet Ma non ho due spazi Se mi aprisse la daily Come hai fatto tu ad aprire la daily? Eeeh Non ci abbiamo fatto Sto cliccando due volte Dovevo andare adesso? Sto facendo ancora questa Non potevo raccogliere Quindi non lo so Ah c'è il bosco Ecco qua Ah ho resistito a dei colpi Si gode Quanto sangue Luttano spesso delle Ma matura gialle Anche domani che cazzo significa Bravo la missione che stiamo facendo è verde Vai fatta Verde Adesso dobbiamo andare due però Cazzo ma da piccoli come abbiamo fatto Senza che ci tenessero per me Facciamo tutte le missione I put back to Prue Prue Sarà una città I gremlin dobbiamo farli lì giù Però tu non ce l'avete Non l'hai accettato Ah io ho gnoll e iron sword Non so che lì che parla Gnoll e iron sword Ah gnoll e iron sword Qua ora ce l'ha anche Eeeh Vabbè andiamo dai gremlin quindi penso c'è lì no? Ma accettiamo anche sta merda Accettiamo quello che c'è Che c'ha un xp Sanno sempre gli stessi mostri Tu invece cazzo sei l'ancial dry tail No Tu livello 20 Eeeh Che palle Va expo io tu fai follow I seals Coral seals Vada Incredibile sta roba Tu invece rupe cosa hai da dire Va bene Cazzo ma c'è un'indicazione sulla mappa Incredibile E ricordo che odiai quando misero L'aggiornamento della linea che ti guidava Eppure ora sembra quasi necessario Non sono queste Sì sì questi sono per i gremlin Però tu non ce l'hai per la missione dei gremlin 뭐 E' qua giù E' la casa dove c'è la cure come sale come sale tu vendi qualcosa no ah frate guarda guarda la parte già bruciata livellarono qua? ah 9? non mi ricordavo fosse così basso come? è stata una vita c'è una missione che devi mettere una rocetta a terra o mi ha... ok hai killato tu non vedo più niente cazzo avrà bisogno di più spazio nella tosca ma io non sto neanche lootando i soldi un po' serviranno e se trovassi uno nel tuo libro devi fare daft gremlin e jumping gremlin ok quanti? due aspetta che mi tolga un attimo queste lenti a contatto di me non ci vuoi non ci vuoi Grazie. Grazie. Eccoci qua, come nuovi. Cazzo che tecnologia che sono comunque, lenti a contatto, eh. C'è una roba futuristica, cazzo. Ah, ti sta cosa starà bene l'occhio, sta lì, di manifesto. Dai, perché non mi rompia? Non so, se hai un'altra soluzione. Ah, se c'è ti seguo. Però farm and you. Ok. Però mi sembra uccidere mostri più alti, ci darmo molto. Allora, la nostra bet migliore è quella di decidere i 40, perché il 90 sapeva che eravamo missato. Ci avrebbero chiedato. Andiamo a fare le missioni a livello più alto. Non penso ci siano sbloccate, no? No, qualcuno sa. Più quella delle 20 si poteva fare. Vediamo, non importa a me. No, non lo dobbiamo far spendere i nostri bronzi. Io ho accettato tutto a lui, eh. Tipo, vedi, c'è una missione di 14, possiamo prendere quella e togliere tutte le altre. Sì, sì, io ho accettato tutto. Cioè, tengo anche reale attento e faccio la mente camminata. E come fai a sapere qual è quella a fare in 14? Penso ci sia scritto. The Soldier Canyon. Treasure Seals. Beh, devi vederla come una passeggiata, però, devi vederla come una corsa. È un libro motivazionale. Perché sei lì? È una madre di missione. Tra le tante è accettata. Cazzo, devo comprare sti cazzo di tardi. Adesso torno in città e li compro. Ok, torno in città. Ma l'hai preso l'orco come vocazione? Quanto faccio la prendere? Perché orco? Quello che abbiamo ucciso prima. È quello di 40. Quanto fa prendere? Ah, devi essere sopra. Cioè, devi essere sopra. Cioè, devi essere sopra. Cioè, devi essere sopra. Vai Octopus, andrò tutto. Quanta ex? Ah, però mi darà bug tu se ti faccio la prossima missione. Vodo. Ehm, cosa vuoi che ti faccio? Dove fa? Quanto vuoi che ti faccio la prossima missione? Bacca. Go to Proul, open the chest next to him, and take the bag out. Go back to Octopus afterwards. To Proul. Quanto era Proul? Cazzo, era Proul, mannaggia. Niente, io... Ah, lui è Proul. Cioè, lei. Non ho male che si ricordava. Ah, ecco. L'interazione. Dove devi fare? Dobbiamo andare qua. C'è questa chest qui. La apri e ti do una bug. Che devi portare a Octopus. Un po' di ti dare una bug per aumentare il tuo inventario. I don't have space in my fucking inventory. Ehm, ecco qua. Eh, lui non ha più missioni Octopus. Via. Sicuramente. Ah, ecco qua. Ho otto spazi. In più. Ok. Il prossimo regalo è 15, davvero 15. Ok. Allora... Allora... Devo fare ora... Gnonda. Rabbin, Sear, Core, Sear, Notri, Sear. Allora, vediamo un po' di fare il Gnonda. Tu hai fatto le missioni di Octopus? Beh. Beh, beh. Allora, Biase. Qua c'ha le missioni. Prima non ce l'avevo. Dimmi tutto, Biase. 2200 di XP. Eh, te lo faccio tutto. Tu lo vuoi farci, lo 2200 di XP. Perché ho ammazzato tutti i due con quello? Ah, ma sei tu. Con i tuoi... Spirit. E ho dimenticato di comprare. Dai. Non vedo niente. Dai, te state, dai. no a 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 dobbiamo spuccare altre cose altre abilità a skill unlock quest line a 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 che il responsabile dobbiamo trovare tra gli altri gli spiriti di fuoco quindi dobbiamo cercare un mostro in particolare qua in mezzo mi sa fermi fermi sto leboni andiamo ecco la provata bisogna proprio leggere ah speak allora dobbiamo qua conversation with retna vediamo come parkour andiamo più veloce ecco ecco un punto 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 Subito Cazzo Dove stai andando? Non lo so Ho scelto un po' di morti Kuznen Bisogna andare A livello 15 Apriamo subito regalo A livello 15 Apriamo subito regalo Borsetta Armatura più 8 E si vola A livello 20 cosa ci do? Una spada che non utilizzerò mai Ah più 15 però sta spada Cazzo Eh vabbè A livello 20 è un'arma più 15 Gratis Comprensibile Dove le vai? All'altro post normale Quindi le dobbiamo Vale Missione O le divisioni Io andrei un po' più avanti a fare le altre missioni Vai andiamo Cioè sono gialle comunque Tu dice già proprio il gioco che sono in basso di dalle Portami portami Eh però non lo so Sì Tipo qua c'è quest'area 15 Facciamo quest'area 15 Sì sì Aspettavate un po' Vedrò Oh ma davvero se possiamo prendere le borsi? Ma non c'è soldi Ok 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 Hai detto uno a 15 dove aveva quello a 15? Ah forse l'aveva già preso Ok Lo prendo tutto Complete Complete Accept 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 Ah questa è una opzione Accept Accept Ok Eeeh Andiamo in luoghi Ok Prima che sia troppo tardi Gabby in seo Prima Gabby in seo Livello 8 O give up Gabby in seo Sui sigilli Sigilli di Gabby No 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 Ciao Via Give up Vuoi fare Ok Coral Sealed I sigilli di Coral a livello 11 Non so vuoi provare a farlo di vedere quanto da XB dava? Eh facciamo una volta e vediamo cosa succede Da 3780 è la cosa che più gli ha dato l'XP fino ad ora Ok a livello 11 Coral Sealed vuoi fare? Sì Andiamo a fare qui E come si fa? Eeeh Dov'è andata a Coral? Cazzo è ancora o non lo so Coral, Coral, Coral Ah ecco l'ho trovato Quello lontano Quello lontano Dov'è? A destra, a destra Dobbiamo superare Cioè usiamo il teleport Ah Dov'è il Coral? Eeeh dobbiamo andare a... Sarnese immagino sia Sarnese immagino sia Provo, provo Sarnese e ti dico Sì, vieni a Sarnese Andiamo un po' per su Oh c'è un punto di scalativo a spawn Cazzo sta facendo Che babbo che si Ehm Questa mission Non sarà facile Eh sì, si giri Ma se le cose più danni Si spiega comunque Però devi farle tutti Cazzo Deve fare un giro solo No Non sono questi eh No Cazzo lo so Cazzo lo so Dove serve avere la... Uccisione di gruppo Anche Eh sì Ma appena si fa quello Eh io non ce l'ho Cazzo là Cazzo lo so Cazzo lo so Questa qui è qui Molta su Come va Cazzo lo so il barco open world pvp, everything you ever wished for can come true, come here i messaggi molto spg andiamo a fare il sigillo avanti e indietro avanti e indietro eh, pensa a farlo senza mount mamma mia mi pensa che l'abbiamo fatto più di una volta ma tanto più di una volta la mission non sarà facile poi si facevano i sigilli, non ricordo più aspetta la cosa che dice the lost tool accetto questo altro ma come sono già pieno di merda vieni sigillando sigillando i sigilli sigillando, sigillando uscire come mutare zocco delle mount potremmo ecco lì la li vedi come sono belli che ci aspettano un bel punto esclanativo fresco questo si è quello che mi ricordo di aver fatto di più questo sigillo no cazzo ricordo che era per me erano quelli nella radura era un po' più merdogno la schifo eccoci dobbiamo prendere tutto giusto? si e ora vediamo un po' non muoiono con un colpo fa ah già ma è dieci di vita ieri ma sembra il caso più dieci scritto abbiamo già finito? no ah è una abbiamo finito no? ah già è insomma c'è questa c'è barack gremlin e gnoll quindi dobbiamo andare a prendere io mi ricordo che facevo tutto un giro eh si prima di consegnare i consegnamenti insieme ovvio ovvio anche io sto facendo divertire la soddisfazione la dopamina alla fine barack qua i gremi di no poi altri vabbè vengo a farvi la shuttle morite con più di un colpo finisci di barack non lo spesso nessun altro uno di vita che rimane no vabbè bossino? bossino ah lui un grande no vabbè davvero un grande che cazzo tutti quanti mi ricordo le posizioni che hanno fatto vedeva tutti quanti è una gratu mannaggia il cristone poi i gremi di qua sei già a sedici tu cosa hai fatto? la missione a livello 20 è apparsa mi è riuscito scritto ah si oddio bossone dove? fiero non mi ricordo oh mi ha buttato via guarda che lo uso è complicato complicato ma puoi averlo c'è fiero bellissimo c'è un altro run un altro un altro un altro eccolo madonna ci manca ci manca un grid ci manca un grid ci manca un pochissimo ok siamo a posto dobbiamo fare penso un altro posto che sono i gnoll e i werewolf non so dove sia non so dove sia no devo provare non più più avanti tiro tiro quasi quasi mi vado prima in una birretta quasi quasi si 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 forse di qua però dove più avanti da visti qua ricorda c'era qualcosa non ricordo il giro se cazzo ma tu quanti anni avevi quando giovo su gioco? ma che cazzo che ne so che andava l'elementare? che cazzo andando? dei media elementare elementare eccoli qua ignoti mamma che cazzo di memoria lo sapevo anch'io però tu sei partito di la che bastoni c'ha questo? non mi ricordava così sai però no se non me l'hanno fatti male c'è mancata texture più che altro non mi ricordavo così mago cioè sembravo un mago vero e mancava un gnollo e eravamo di pazzo comunque facciamo sta roba non ci sono più morti tutti qua ci debba essere i werewolf ecco e va ecco e va e facciamoci anche boss a sto punto oddio sto noto e va ah ah da dio i mostri se mancava un po' di bombatti durassero un po' di più ricordo che c'era anche qualcosa qua infatti mi buttavo ah vero 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 che sape che ci buttavamo aspetta mancava un gnollo mancava un gnollo non lo stavo buttando appena abbiamo finito questo è l'ultimo esigile ah no vedi me ne mancava uno andiamo andiamo ancora il mio grande amico ci siamo conosciuti così tanti anni ma non ricordo aspetta vado o andiamo più avanti a fare altri sigilli intanto tu provo a guardare se c'è qualcosa in giro altri sigilli più alti livello sicuramente uno si che abbiamo 3 giù 3 giù sigilli che sono livello 14 ma tanto te li danno cioè ce li danno così cioè non dobbiamo fare mission ma c'è chi tu provo a guardare a prendermi una birra io eccoli qua oh potresti solo fare qualcosa di te stesso ma te stesso luo puoi luo 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 puoi luo Sì Bello che io dovrei fare mille robe ma sono qua a perdere il tempo Dovrei anche guardare i voli, guardare i corsi Voli e corsi? Eh i corsi si senti un po' guarda però c'è il cazzo di tempo in sto mondo Tanto comunque non mi trovo Eh che sto dicendo? Tregio? Sì sì ho preso tutti I sicili? I sicili I sicili Eh ma andiamo avanti no? Eh facciamo queste una volta e poi i nomi d'altro Ok Stai già facendo? Sì 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 Pezzo di merda ma aspettami Ma te arriva l'Expo? Sì ma arriva la missione Eh bene tanto che ti cambi sto qua aiutati Ti faccio l'Expo di Gratis Eh no devo vedere che cazzo fare E queste qua? Le ho fatte Le li fai? Sì non ce le ho nelle queste a destra Non le vedo Ah eh nemmeno io Semplicemente vedo scritto su Ehm Volevo dire Ah i voli comunque attento e fra c'è Io mi sono salvato in maniera pazzesca Praticamente Sofia era tipo che non gli ho detto che avevo già preso il volo Mentre aveva il telefono con te no? E le fai ma quando prendi il volo? Le hai fatto no già ho preso Ma come ce l'hai preso? E le fai ma guarda quando c'è nessun volo per venire il venerdì o la domenica Sì sì non lo so Cioè sono scomparsi Probabilmente non ci sarà neanche perché già l'ho visto ieri e costava 400 Ero su da sta roba Cioè io ho mai preso una inquadrata così Cioè stavo per prenderli inquadrata Se non l'avessi comprata a telefono Uno su otto Uno su otto Ma c'è qualcun altro che ce li ha fottuti? Adesso che sto qua Foxione Smetti Foxione Dai Get ready Cazzo c'era sto posto ora mi viene in mente vagamente con dei banditi in un'altra mappa non troppo avanti nel gioco però Qua lì quanto cazzo di tempo ci sono stato da solo davanti al computer così ammazzà ammazzà Oh mamma Oh mamma eh Bellezza Oh Bellissimo Quindi si gioca a Dragon Dog's Mane 2 eh? Cazzo subito si si sterbe Eh certo che esiste Ci sono le modi? Sì In due non c'era modi Sì sì Solo che dovrei comprare il gioco e non scaricarlo quindi magari tu inizia a provarlo Sì sì Ok ma... C'è ma non è lì dentro della mod ma è che c'è credito ci ho provato a cercarla Vado di aver finito qua Ok Eh io non lo so il giro quindi mi voglio vedere un po' dove dobbiamo andare Nuova mappa su Non credo di lì Era qua a sinistra Mi pare che non è raro da avere un sicilio che attivano un'altra mappa Mi sembra Ma io non raro mi pare che non sia non fatti Warpg Cazzo è Warpg Pai Ptd Sì Comunque credibile come certe community esistono ancora Loro Vedete se Uno su dieci Il 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 Ma qui c'è anche una missione da fare. The Lost Arrows. Qua. Ah ok, lo vedo, lo vedo. Ma potrebbe anche prenderle lui, cioè sta qua in piedi. Fermo. Sì. C'è una ancora lì? Eh, io sono al terzo. Devo prendere la cinque, mi sa. I gatti eravamo finiti, mi sembra. A me dopo. Un gatti. Eh, me ne mancava una. Anche a me, mi sembra. Sarà qui su? Ah, ho visto, ho visto. Ah, eccolo, vero. Oh, non ho spazio. Eh, ce n'è uno. Perché non me lo dà? Che coglione. Ma butto per terra gli oggetti. Eh, ma sembrano vuole. Ma vai a fare il culo. Oh, hai preso il puma. Come? Mi stai prendendo il puma? Il puma? Sì. La missione dopo, dici? Sì. Eh, ti arriva, no? No. Eh. Come no? È arrivata? Sto pronta, no? Strana. Vediamo. Sì. Ah, è puma, ok. E c'era il bear qua? C'era il bear? No, dovevi stagliar qua. Ti arriva il bear? No. Ah. Se vieni qua era più... Era il giro così. Ora facciamoci... Cioè, ci scambiamo, dai? No, no, vengo lì. Ah, vabbè, dunque. 10 bear di nard, secondo me. Quante volte vai alla gym, tu? Cazzo. Sì, ma... Non vogliono più già sti cose, eh. Che cazzo è? Meglio così, no. Eh. Che già stiamo andando troppo senza... Senza... Anima. Ma... Conna. Quanto roppo... Cazzo. No, secondo me è giusto. Però... Dobbiamo fermarci un attimo per assaporare. È giusto. Stiamo... Abbiamo un'arma finale e non scioltiamo i moffi del 16. È giusto. A spazzare ne mancano ancora un po' io. Ok. È giusto. Devo mettere punti in difesa. No, la voglio mettere in difesa. Ok. Ci vede, eh? Stavo leggendo le schede sulla... Oddio, perché mi ha messo la... Mi ha messo la merda di cosa più alto, ma sei impazzito da solo per la merda. Stavo leggendo le schede, mi ha messo l'arma più alto. Oh, ma quanti attacchi devo fare? Pum ha ferito qua a livello più alto e quello non era ferito. Sono finiti. Ah no, gli Injured. Devo fare ancora in me. Uff. Ma il cos... ma il chiorso, col golem indietro. Non l'ho mai notato che fossero di goda. Fosse? Che fossero di goda. Devo fare ancora Injured, mi sembra. Sette... otto... Anche io. Nove... Dieci. Dovamo faremi sembrare l'orso e poi scendere giù. Eh, non so. Lo dico l'orso e poi dobbiamo scendere sotto gli orsi. No, bravo, abbiamo finito tutto. No, no. Dice? Treci l'orso e finito. No. Dobbiamo solo portarli a lui e poi portarli al tipo. Nel C-Longs! Pedro. Proprio mi sembra finire del console di giro. Perché aiuti, laedrupa, non dico. Non dico tutto il mouse. E' cose? Giante tiosediamo? Ehi, sta pronto! Ecco come uno come te partito di giro. Sì, ho detto quante cose ho detto Allora, ne vedo diciannove, cazzo Wow! Assurdo! Fai riprendere stabilità un po' Cos'è questa? Presence Il fumo del Presence è giusto in una mano, ok Magari devo aggiustare un po' L'ordine pro Ti sei già trasportato? Un pezzo di merda Che cazzo vuoi? Allora... Prendiamo quale diciannove? Ah ci sono? Sì La mission from the fort, 17 e diciannove Dician sette non prendiamo? Boh, eh Vedete, facciamo una volta tutti i sigili Per ricordarli anche Vabbè, allora io farei Cioè, te toglierai proprio le altre missioni Facciamo solo i sigili Ma sì, anche quella è altra Però io ce ne tengo e che tanto non ricordo Prende i punti in 3 scamati Sia mai, eh? Diciannove questa Che te ne fai? Facciamo un giro i sigili Saliamo di due livelli Ah, dobbiamo solo parlare E' un dialogo importantissimo Una mission incredibile Una mission incredibile Ok, allora dove dobbiamo andare Non so dove dobbiamo andare A Augustus Qua già stiamo andando In territori più... Così proprio per... Eh? Tornare il portale di prima Così proprio, eh? Sì Eh sì Eh sì Ah, qua la Fortez Mi sa che c'è un'altra missione C'è un'altra mappa Questa Fortezza Amoraiba Alla fine ogni mini avamposto sono... Non so come si gira Che è difficile essere le scale con la... La... Il cielo Dov'è che sti sei messo? Che sei andato? Fortezza Amora... Moraco Ah, i fratelli sono qui Qua Altri punti in scamati Mica, ti ricordi che il mago si trasformava in aquila? Bellissimo Ah, è una roba del genere Cazzo Genialato Ovviamente il mio no Il mio fa cagare il warrior, cazzo Però andava affatto solo per Lush Il più triste di tutti C'aveva un attacco che mi piaceva Che era quella scossa sul terreno Tipo... Basta Sì Doveva essere qui Oh no, stava dicendo qualcosa sulle donne Che sembra molto misoginio Non voglio ascoltarmi Questo personaggio stava dicendo qualcosa sulle donne Sembrava molto pericoloso Ehm... 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 Ora bisogna ricordarlo Vediamo Questa me la ricordo proprio Ma abbiamo preso i sigilli, no? Sì sì, i loro tre sigilli Che sono tre persone diverse Ok In questo caso Per... Per... Ehm... 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 Vabbè un po' Ehm... 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 Cominciare a raschiarmi le palle Dobbiamo farne altre Non l'ho visto Allora Finish Questo qua Finish Baraks fighter and magician Fighter and magician Fighter and magician Eh Oddio è tuo? Sì Mi sono detto di come la merda Cazzo fa fermo a terra? Beh è una torretta Oh no mi sono incastrato fa Incastrato per sempre Ah ok Si è bugato mia di bella Ah che ricordo sta zona? Bravo Dove esserci il boss Nooo c'è il stronzo ci sta fottendo tutto E farà anche il boss ora nooo Ah ma qua c'era una roba da fare Se ti vuoi delle pozioni che ti facciano entrare non so dove C'è un piccolo dungeon Oh livello 80 questo fra Vieni un po' Vieni un po' fai il culo a strisce Guarda come sopravvive Si che bisognava tipo depistarlo con delle pozioni Travestissi come loro Una roba del genere Che più è livello 80 Che più è livello 80 Go M***a va T'ho porto a un capo io God's Tear Cazzate Non mi ricordo come insomma io Open the chest Vieni Boh Ma va Fantastico stupendo Mi siamo presi una vendetta incredibile Sulla Sulla pelle dei nostri Che Sulla pelle dei nostri Oh Ma te ne ha ti stupendo Esatto 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 Finito Magician Ci manca Fighter Vero? Non Torniamo su Eh Fighter Mi sa che sono qua giù Mmm 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 Qua c'è un fighter Walker 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 Eh no Mi sono giù Mi sono Oh Mi sono incastrato Finito Anche io Spero Kill E Se va a casa Ci mancano Barak Fighter Magician Dice Ma C'è Mi sa che è un bug Perché Barak Fighter Magician L'abbiamo finito E poi c'è un altro Barak Fighter Barak Magician Ma questo Che cazzo saranno Questi Eccolo Caricamento Una mappa Molto cineseggiante Questo Questo Ambiente rurale Sarà stato fatto di proposito Mica perché Tra questo Sono una merda Se lo dici tu? C'è se lo ci vedi cinese Ah le montagne sono così Dicono Eccoli qua Immagisci Uguali agli altri Uguali agli altri C'è Stesso nome Ma Comunque si vede che fai più danno Un bel duellino Un bel duellino Apri il culo e che Mi butterai 300 roba Non capirò un cazzo Un bel duellino Corretta E i cavilli sotto Anche Un bel 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 Dimmi. Ah, dimmi, stiamo a strozzata da me. Cercavo di inventarla. Cioè, mi viene semplicemente da dire... Nulla. Aspetta, posso riaccettarla? Mai. Eh sì, lo sgili. Però di solito la devi riaccettare. Sì, hai già ancora una missione da fare. No, puoi farla di infinito. Sì. C'era bisogno di metterla sopra la torre. Sì, sì, sì. Lo facevi sempre, nel senso, ora non la faremo solo una volta, ma... Quante volte devi risolvere questo... La riprendi, questa? Cornan's Orb. È diversa questa? Come ti salventi tu io, no? Ah, ci sono scambiati i posti, eh? Comunque l'ho presa, questa, questa qui. Due tacche mi mancano ancora. Cosa dobbiamo fare ora per questa qui? No, andiamo a fare altri sigili. Spera, spera. Corks belong... Sì. Prossima tappa... Non so dov'è. Eh, bisogna cambiare mappa. Cazzo sta vicendo. In Tibered. Dove cazzo è Tibered? Ecco, allora, a sinistra. Eh, quella del... Con lo seco gli schede, tipo, non so che cazzo... Cosa? La mappa. No, ah sì, è vero, è questa. Però dobbiamo andare... Come ti sei dato a spazio? No, sono qua. No, dobbiamo andare in città. È arrivata una mail. E' chiesto. Ah sì? Congratulations for reaching level 21. Ma sono 20, fra? Eh, già... già sto, lo immagino. Beh, non sono ancora salite. Com'è possibile? Bene. Bene. Ho un deposito, giusto? Deposto al roba... Ma vendi, la buttala no? No no, c'è roba... Quella possente. Che era a banca. Beh, quindi... First deposit. Ah ecco dove erano i gnolles a sword. Mannaggia, lasco i posti. La scuola è quasi più grande e trattato. Ch Guardare che ca, le servis arrivo a mettere anche la scuola. La scuola è costruita. La scuola è fondata. Non so, non so, non so sono tutto il messo, non so. Non so quello che è appena. Nel uno di raggiungo creare un luogo pezzo e il insatale. assurdo che non riesco a stare di livello, no? oh no ma anche tu hai i sigilli di tregio? in inventario? no li ho dati io ne ho quattro no li ho consegnati a chi? eh sempre questo qui accetta tregio forse è troppo tardi anche se saliti troppo di livello oh buttiamo tutto vai le soste invitations per le battle del modern capitale andiamo a vedere questo andiamo a vedere un po' che cosa sono dai altrimenti il capitale deve essere la beniamata Iberian Fistion no qual'è questa? un po' di gente io ho trovato un segretto che è in la città il capitale l'intervento l'inferno l'intervento attenzione Filippo e un po' che lo so in the magnetica soldier distro magnetica sono una capitale dove c'è tutta la gente di merda marcutto si magnetica soldier distro cosa devo fare? non so se ho fatto la cosa giusta ah è lui forse strategic command vediamo se è lui cazzo guarda questo qui frate cosa c'ha questa vieni qua vicino a me no veloce c'ha un dark demon livello 90 ma non ti vedo ma c'è un casino ma c'è un casino piene di icone come faccio a vederti ma anche tu dammi indicazioni no? ma sulla mappia piccolina c'è un punto blu io vedevo benissimo io non vedo te ah adesso si sei sommesso i quelli interrogativi guarda qua guardalo lui questo demon mi vedo 90 dark demon ah sto saltando ti vedo guarda ah ok ok guarda guarda sto dark demon ma cos'è? eh penso sia l'evocazione di sto qua eh ma come fa ad averla? bellissimo eh non posso evocarla così bug un pochino comunque siamo venuti qui per una missione in particolare ovvero andare da questo qua accettare quella di quello 10 e quello 20 stadio da calcio vieni qua stadio da calcio vieni qua vieni 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 il football 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 stadium forza napoli forza napoli arena stadium peaceful world ma perchè football ha proprio la porta come faccio a fare a registrare il napoli come squadra eh se si guarda soltanto ci sarà sicuramente già il napoli quindi quindi vieni qua vieni vieni qua vieni qua vieni qua ecco qua bella questa ehm da questo sanni accettare la 10 di venti vediamo cosa sono abbiamo un invito vediamo go for the mission portal in headquarters of the battle magician to Sarnis in Jesu to talk to Melbourne i need a secret document to Sarnis in Jesu Sarnis vediamo Sarnis in Jesu vediamo vedo non vedo la rito ciò qua forse c'è un altro ah mission portal un nuovo mission portal si mission 1 andiamo cosa vuoi fare? prendere due missioni da lui e poi va a portarle a destra due? si a 10 e a 20 e poi vai a destra c'è un altro portale c'è missione 1 portale e missione 2 a destra di questo sonny ah ti ho visto di teatro sparta dove vado? di esudotar questa sia una missione da guerra però vediamo beh possiamo fare una volta first mission map receipt receipt ovvero every two hours in the evergreen forest ok nella evergreen forest dobbiamo andare ok è laggiù 14 bei silveroni non penso averle mai fatte queste da piccolino no no mi senti da spettacolo sicuro in posti strani mi senti da spettacolo sicuro in posti strani dove ovviamente è una mappa normale però non c'erano giocatori non ricordo cosa ho fatto quindi battle area ma questa è la stessa mappa di prima lo sai? ah si appunto quello ho detto cioè che è la stessa mappa di prima però non c'erano giocatori ma cioè tipo una roba come se fosse un server parallelo per la storia poi non trovo ah vedi qua sono rimasti normale i due boss non hanno quella cosa dobbiamo fare dice che ogni due ore esce la battaglia di questi qua è proprio la musica che volevo spesso quando ho chiuso la finestra ecco questi qua hanno deciso di comandare come sembra oh mo io frate salva eh salva me ne sono venti quanti salvi Dio merda Dio così ok eh ah no c'è farm guarda 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 la mia torretta guarda la mia torretta la vera qui era? shotta tutto allora la l'evergreen forest ogni due ore mica devo aspettare due ore già ti ammazzo vediamo eh la l'evergreen forest la l'evergreen forest è qua questa forse più in profondità dobbiamo andare ci fa male expirata torretta eh beh deve essere qualcosa da uccidere i mostri se ma comunque da un po' delle tacchette dai pochissimo pochissimo ma siamo e la l'evergreen forest ancora dobbiamo uccidere un balnard un certo balnard penso sia un umano spavano molto velocemente il passato comunque no ho stato qua in questa zona in questa zona proteggimi un attimo i miei attacchi comunque sono un po' ad aria un po' cioè se sono vicini fa split damage o splash damage eh ci sta la gruppo di tutti allora eh ma ci sono alcuni che ho antisevo mission battle area non capisco magari di qua eh ma non è la l'evergreen forest qua è sacred crew però proviamo vedete vedete sacred crew oh aaaah ora sono a salito di livello non posso più rimanere qua ora sei? livello 21 non posso più stare in questa zona tra un'ora mi buttano via comunque mi sa che davvero è ogni due ore ho due ore delle nostre ore mmm beh vediamo se farm mi risponde anch'io cosa è anche qui? sono salito di livello ah mi sta bannando dalla missione niente si strano un'ora passato un minuto eh possiamo fare quella a livello 20 eh non so come uscire io quella adesso ti caccerà troppo questo che mi è venuto? attento produrre 3 ah avrà rifiutato messia la missione se non ce l'ho già tolta Sì, vediamo, give up, give up, give up, give up, però possiamo fare un'altra. Bello che mi ha risposto anche farm, ha fatto hey, vi fa hey, va cacciao. Dai, trasportiamoci, adesso quando mi siamo. Nanana, anche questa non la riconosco. Che cazzo siamo? Come che cazzo siamo? Dai, siamo all'utile qua? Non la riconosco, questo va un posto. Eh no, Fagmi, Fagmi. Per se il secondo esce, ma per se il. Sono andato più avanti di te. Qua era in mezzo... la guerra qua mi sembra. I zombie o non vi ricordo? Ah, sì sì sì, il luogo. Qua c'era la guerra, quindi mi ricordo che passavo di qua per andare a combattere. Qua fra due ore, Rack Sengen. Beat Rack, Monster Kid. Non uccidere. Eh ma... cioè se dobbiamo starla due ore, cosa, non so. Ma no, ma hai fatto Mascimento, perché devi farlo? ma che sembra una roba importante poi da 33 mila di xp però non c'è che per arrivare qui non ci serve un invito con un invito che ci hanno dato solo una volta io ne ho due non so come ma quindi mi sa che è tipo un evento circa un po' online dai forza napoli ma chi è che scrive forza napoli c'è il switch fra joe only dung con la scritta forza un mito sto dsgm26 joe only dung che significa raga ah si dove c'hai? mi sa che ti stanno rispondendo is 19 29 39 con la traccia ma che risposta è? sarà un codice ma sei morto sei morto cazzo è un mito dsgm è un mito dsgm26 è un mito dsgm26 è un mito dsgm26 che ci sarebbe stato fatto la vita boh strano sta roba è un mito dsgm26 è un mito dsgm26 è un mito dsgm26 un mito dsgm26 è un mito dsgm26 è un mito dsgm26 è un mito dsgm26 un bellissimo muro invisibile Sì, ma ci sono proprio gli eventi, c'è l'evento di San Valentino, ma stai scherzando? Spero di sì, ok. Non ce la faccio più a vedere San Valentino in video gioco. Sì, spero di sì. Cosa? Che senso spero di sì? Cioè spero di stiano scherzando, da te. No, c'è l'evento di San Valentino, non è l'eventiquattro. No, no. Ti giuro che non è così. Scorpione armatura... Ti giuro che non è così. Scrivi... Cioi. Cioi? No, Spirit. Ah, non sono in chat. Fantastico. Che scemo di merda. Experiade. Fra, war encampment ci sono, ma non c'è nessuno. Io come faccio a sapere... Ma poi, anche se so due ore, mi fai sapere quando. Cioè... Do sta due ore quasi due ore? Ma vabbè, fate ammazzare. Allora... Killarac, the monster king. Grazie a tutti Grazie a tutti Tu che stai a fare? Ecco qua dice Lo sito ufficiale troverò da quanto fa Vedi il primo anniversario se c'è qualcosa Ma immagini che sarà a scaduto Sì ma ogni volta devo fare login Allora sta cazzo di mail Ma stai scherzando Oh no Allora sta cazzo di mail Allora sta cazzo di mail Allora sta cazzo di mail New player Allora l'ho già vista non va Ma non è che io le amici Ma non è che io le odio sta roba Cazzo Sì mi sa con questo due ore da terra Cioè che Ci sono degli orari pre-stabiliti Tu vieni qua e Fai il boss E sai che sono sempre due ore tipo non so Le sedici E questo è il punto non sappiamo Cioè io non so dove controllare Ho appena cercato Cioè sul sito sto cercando i codici E nel primo anniversario ti dice Ti dice i codici Cioè non ti dice un cazzo Ti dice gli orari per tantissimi eventi Tipo alle 6 5 e mezza C'è questo Quindi La stessa cosa sarà anche qua Che Dobbiamo venire a un certo orario Però non sappiamo sia in mezza O in punto Quindi a massimo Un cazzo a massimo Non vengo qua ogni mezz'ora Mi va a far cura Ma anche se non lo voglio fare No 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 Teniamo a fare cose normali dai Peccato Anche perché La lettera è usata E poi arriveremo subito a livello 30 Cosa dobbiamo andare a fare Stato dell'Empere Vabbè io le abbandono Questa missione Perdonami Dobbiamo fare Insomma se non mi arriva le mail Come faccio a metterle E me le mette Dobbiamo fare i sigilli di Augusto Augusto Gustus In Tibered Che sarebbe la mappa Accanto Vediamoci a piedi Sto state trasportando Al nostro piccolo villaggino E' un po' dei sogni Sempre nei nostri Cuali Buon anno Trovate altri E' un po' dei sogni a faremi cazzi miei no nella città normale cazzosi è normale qui proprio qui andiamo all'avventura all'esplorazione al viaggio la fantasia ma siamo a livello di ventura bellissimo ma pensavo potessimo aprire il presento ma ci abbiamo aperto eh si, sono i due livelli eh mi sono mai reso conto che fossero i goli, ma dove vai? sbagliato eh sto piccolo sentiero verso i sogni più remoti chissà dove porterà quella stradina ma non ci interessa vai che cazzo hai? no mi sono bloccato a me, non so, sono fe stai andando sul muro stai andando, stai andando sulla montagna stai zitto stai giù? eccoci qua, cambiamento, netto Verion o Tarion? chi Verion? ah qua c'erano dei cavalli, bellissimi c'erano dei cavalli aspetta che ne piglio uno dai cazzo si poi vabbè non fai sicilio quindi eh stai cazzo Mike, Charlie, dove è Augustus? ecco vado Augustus è un po' grecheggiante questo luogo un po'? grecheggiante eh si è colonne, Colosseo, Augustus, Centauri S palese 3 uguali qua, qua io ci ho speso la vita diversamente ci ho speso la vita qua giù non sapevo se fosse lo solito a 19 hai preso anche parte 1, parte 2, parte 3 si ci sono sempre sigilli no? boh cazzo ho già 6 sigilli sto qua sto carissimo boh mi pare che i centauri fanno parte no? di questa epopea eh eh ma lo scopriremo a quanto pare no eh ah no si si due colpi dai io un colpo solo vuoi ancora solo 100 bronzo non so a me mi ricorda che potevo prenderlo questo ah si ecco infatti ce l'hai? si si pensa che era forte che era forte perché può attaccare sia da lontano che da vicino ma questo è il boss? è Corpse of Iron Fist 2400 di litro perché abbiamo fatto questi qua no? no non credo no non tanto ultimo fighter e anche uno sciamano manca qua ma ci saranno neanche i gradatori da fare immagino si qua giù ah già vedo se scendeva è il boss qui? oddio mi ha trasformato in un qualcosa come cazzo faccio si sono ribellati ok ok qua c'erano pozione cosa che c'era? c'erano i coloni ma dopo non mi ricordo però ricordo che nel Colosseo era peggiore perché devo stare attento camminare vicino al muro non è gratuiti casino però vedi che non serviva il magico si aspiravano tutti non vuoi cambiare classe certo eccoli qua no 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 azzi c'è campiato grazie 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 Questa è la vostra pensione? Anche Mi toglie le vocazioni Le butto per terra e non rimango, non spariscono Allora mi sa che anche le altre sono così Devo sedermi un po' a riposare Bella posa, no? No Non c'è Mettate le mie skill non vanno, fammi capire Guarda, guarda che sparisce Ah no, adesso no Ecco, è sparito Infatti riesce a qualcosa Eh, adesso c'è un'altra schiena ma non va Guarda eh, spariscono pure questi Ah, vedi, spariscono Ma non dovrebbero forse sparire No, non dovrebbero C'è durano molto di più, prima durano molto di più C'è nell'altra mappa eh Mi provo di mappa Ma perché stanno facendo questi? Ce ne mancano due Ah Abbiamo finito qua Ci mancano Bloodthirsty, rebel soldier Mi sapevo lui Proprio loro No No Siamo andati Vabbè, grazie Vabbè Tutti hanno fatto fare Siamo andati Pensavo se durassero di più Mannaggia E' il tuo piccolo esercito Dio, sembrava medico La parte finale Siamo andati Ah no, ma ci mancano ancora due Spera Bloodthirsty, rebel soldier Ma perché? Guarda che l'abbiamo usciso Anche qua, guarda Sto stronzo qua 9 Ultima Incendi la Rebel soldier Ah, blooded Quindi rimardi praticamente Ecco Ecco Mi sembra dobbiamo rifarlo questo No, ci saranno essere gilli Del livello Primo alto, no? E' solo 22 Ah, io no Eh Vodo Graffiglietto Di cacca Ma... Non abbiamo finito Sono sei Eh, scusami Vi ho fatti due? No, ma che ti dice No, tre Non trova bene Io ho finito tutto Uno, due, tre, quattro Questa è facilissimo ancora Cinque, sei Un po' Livello 22 Un po' No, a me è matto Metà 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 A me quando posso equipaggiare E... Che dice che non posso equipaggiare la roba Però Warrior questa qui Ce l'hanno preso la skill Per equipaggiare Armature pesanti Praticamente Un casino Un casino Dobbiamo fare la missione principale Un casino Dobbiamo fare la missione principale Ma ti forti Allora Go soft Ma rabbia forte Ma rabbia forte Ma rabbia forte Che cazzo Vabbè Allora Faccio rimanto giusto Aspetta qua E poi sei il livello però Ehm? No, avanti il livello vai Vabbè Che fa? No Bastata Vabbè Aspetta Non lo so No Ma che devo venire io A fare le missioni che non mi interessano Se non ti parli No, fai fai Allora Ma rabbia forte Insomma No, facciamo questi giri 22 dopo Sì, sì Ho preso No Ma non facciamo Non li facciamo quelli 19 Facciamo 22 No, no Vabbè Quale è la missione da fare? Ehm La mia si chiama The Magic Key and Saw Fragment Grazie Mi dai bio info Do l'hai presa Ah che cazzo Non so Non ho fatto Ah Che falle Ma come la trovo? Ah Ah Boh No, si è incliccato del davvero Ah 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 No, si è incliccato del davvero Ah 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 No, si è incliccato del davvero Dove sei? Andate a vedere se è qua che devo andare Da quel boss che abbiamo ucciso il livello 90 Ah Non lo so Cazzo Mi sono portato i dati tutti No, credo sia presto No, sono aperte spariate Ok Kronlans urbuk Dove cazzo estou grove Grazie a tutti 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 Dai Grazie a tutti 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 Cosa c'è Grazie a tutti 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 No Grazie a tutti 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 Dovrebbero esserci Grazie a tutti 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 Non c'è il posto Maxima? C'è ancora uno di maxima Siamo in boss, non so mai Server Sempre dovuto Importante Troppo Vai, fermiamo Taccari così Sulla testa queste qua ora Entro di qua, tu entro sulla testa Non so se sono state strategie tattiche Il flank Ecco, fossimo comandanti Oh, otto persone in live Non so Piace for story, piace Ma cazzo sei? Eh, sono entrato da qua, no? Eh, ci hai messo 30 anni Guarda la stasciata Ecco qua Questa altra Vado Niente livello Instant per lì, se ti sa Eh, manca ancora uno Dando un cazzo, tra l'altro Ah, non me l'ho controllato Non la guardo nemmeno con la barra Eh, sai che Ah, non c'è Abbiamo ucciso tutto il cazzo di campo Eh, non sono abbastanza Non erano 8 Cazzo, le fa Altra, tre e l'altro Vai Vediamoci un secondo di pace Guardarci in foccia Guarda qua, è bella Sta sciona Andiamo uccidere il boss, va Ah, è uscito, ah, sono uscito anche io Allora, gridiamo di nuovo, eh A questo punto Infanto, si spawnano L'ha blindato Bene Ho questa armatura Cioè io non ho niente di up Ah no, ce l'ho più alto Un pezzo Eh È quello Eh sì Cioè cazzo, io non voglio Io non ho cambiato all'inizio Bene Possiamo Veda consegnare Tu aveva 25 Cioè 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 4 storie C'erano 0 viewers Adesso ce ne sono 8 Dai Ah Ma io sono 8 Quindi Le facciamo rinascere Le facciamo andare in voga Le facciamo andare in voga di nuovo Oh no, c'è uno Che cazzo sono? Chi cazzo sono? Chi sono sti qua? Vabbè Se sai tu dire Allora dai Abbandoniamo? E però poi No, non prendiamo il Premi finale del finale del finale No, si vuole anche abbandonare Non si può abbandonare Che dici? No Si può Si 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 può Dividi abbandonare la Jay Però dai Andiamo Ormai si andiamo Ormai si andiamo The Disrespectful ones Part 1 Boh Perchè dove devono uccidere? Ehm Sono i Arnolfighter I Gnolfight Cazzo sono sti Gnolfighter Ah questi Ah giù Ah vero che siamo Andati molto presto sopra Non ci siamo presi la briga di ammazzare ogni singola figlia di puttana Altrimenti Ah no No si si Sto prendendo in giro la missione Sto gioco di merda e devo uccidere No ma sono questi Sono questi Vedi finished Ecco qua 5 su 6 Ehm 6 su 6 No aspetta si 6 su 7 No aspetta si Sono da fronte Via Fuori 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 Incredibile sta vada comunque eh Cioè che Hanno Cioè è un sistema non così male però È Comunque È Comunque Fascinante C'è nel senso che tu stai lì stai là A fa' sta roba Però come è stranzata Non c'è un niente È della strana Andiamo a Consigliare Comunque sono il colore Ah Lui È un classico giocatore di full story XXXXX Sì Tu caricchi istantanei ragazzi Che c'è Queste sono 5 Io ho 26 Come? Dove sarà Questo vorrei Aspetta John In In Nortengard House Nortengard Sempre ha anche una mappa Immagino Sì Armaturone Fru Come ce l'hai? Ah è la 25 Vero Eh come ce l'hai? Sì Sei radone Ah tutta proprio? Vabbè ma che senso ho? Che senso ho? Ah mi chiedo No però il casco è arrivato Me lo devi togliere da testa Non posso proprio Però giuro che non posso proprio Vabbè si toglie Vabbè si toglie Come? Non so che faccio Ma toglierlo proprio da testa dice? Sì No però c'è una visione adesso Sì Nel senso c'è il tasto per togli Nascurandolo Qual è? Ma figa ma frate Io però non lo trovo Premi C Ah è C Vabbè non manco mai aperto C frate Eh vabbè Madonna mia Cazzo di gamer 6 Ma nelle No allora in tutti i giochi oggigiorno Te le mette nei settings E sta cosa Non nel camera No lo mettono nella C'è il cappello di solito Sempre Si fa sempre in MMO si Eh si Anche in diavolo era così mi sembra Dai andiamo 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 Dai andiamo andiamo Dai andiamo andiamo Dai no fanno di cuore Un po' Dai Ma che rompi cazzo Tu corri sopra nella vita Fa ancora di troppo Si Livello 30 invece cosa mi dai? Ah Più 18 Allora mi serve La mia più forte Tristezza Ehm Cosa volevo fare? Ah qui Ci sono gli I rings Ah ma Hanno una durata però In che senso Ma aspetta questa arma ha una durata quella che ha il mano Si hanno una durata fra Cosa? Cosa? Le armi che abbiamo in mano Non dobbiamo quittare Dobbiamo stare qua così con gobbiti Ingobbiti proprio Si Aspetta Adesso si spiega L'armatura no con l'armatura no L'armatura no Ah no 19 no Però quelle che Cioè Riceveremo delle armi un po' più scarse A livello 20-30 Però Alla fine Quella non è a tempo No l'armatura no Cioè quelli che prendiamo da lì Dal salire di livello sono definitive Però Questi che abbiamo preso dal coupon Dal redeem No Quindi Vabbè prendiamo i anelli a questo punto Vediamo quali sono buoni quelli per me Life mana Strength Strength endurance Strength endurance Strength Intelligence Skill endurance Strength endurance Quindi Se io prendo Anche quelli nell'inventario sono già Cioè perdono già tempo eh No penso Sì sì anche nel cash deposit perdono già tempo Cioè non cambia niente Ma quante collane e robe posso mettere adesso? Earring Non so Dipende se sei nigga Contra voi Cosa? Non ho capito No nel senso No è sbagliato tu penso il termine Cioè non è assolutamente quello che vuoi dire No 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 Se sei una persona con un certo gusto in accessori come me Che io comunque so Ercchini Lunghi Sì è quello che ho detto scusa Ma adesso hai capito male Ti sei espresso male Comunque Al di là di quello che hai detto Diciamo che io non condivido anche se ti sei espresso male Poi Ehm Andiamo avanti Nostra vita Allora Agita Agita Allora così Ehm Si può avere due Earring Ok Siamo pronti Andiamo da Giognona Guarda come lui c'ha il suo piccolo Ah ma c'è su E' tuo No ma famosa dire è qua in giro E come l'hai preso? Ooooo Vabbè fra Stupendo E a dir poco stupendo E questo cosa fa? Cioè dove l'hai preso? Cosa fa? Da skill Cioè cosa fa però dai? Attacca e congela Un vero bello cazzo Un vero bello cazzo Allora 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 Stare un po' qua che ci ho troppo skiller Ma Maraca Cara E' famosa Cazzo 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 C'è I I come si lascia? tutte le altre skill dove le metto? io ho già finito lo spazio e sul culo se ti muovi andiamo anche a toccare devi davvero stare zitto Dove hai messo tutte le tue skill? Oh questo è tonto praticamente Lo prendo Ah non posso Non c'è pieno di money, non c'è pieno di soldi Cosa facciamo? Cazzo va? Le pozioni Ah aspetta c'ho questa 8 silver dammi qua Presi Evocation debuff produce le damage Oh fray comunque c'è meno 25% di danno questo drama Chi è? Tu C'è un'altra icona Va bene Buona sapersi Oddio fray I sigilli di strafili di puttana Dov'è? Ah sempre sopra Coglione Un altro? Mettimi nei 7 8 9 Pazzi scatenati sti mmo Oh 40 gente Voglio vedere quando non batte il dark demon Mai visto un summoner così bello nel gioco? Hai visto quanta gente posso evocare? Troppo bello Come cazzo un summoner dovrebbe fare alla fine? Attacca dal solo l'ho messo aggressivo e sto fermo Oh Un misdraio Stonato 12 minuti di cooldown una skill Va bene Vado Vado Ah questo era il boss Sto vedendo sto leggendo un attimo delle skill Main weapon and shield Allora poi vedo Carini vestiti tuoi Pijama proprio Altri dobbiamo fare qui Cioè Fumoste Però non mi ricordo il giro come era qua Ehm Molto Ehm No No E' la fatina per so far uguale attacca solo che lui è più danno è più ghiaccio no qui tipo a destra poi a sinistra ma forse qui sono tutti fisici? no no ah il bassone vero mi ricordo lui mi fece dannare perchè? ti addormentava ci roba del genere non ricordo neanche uuuuh 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 e ora mi sembra che qui c'è tipo una roba con dei banditi un po' su una piccola salita anche qua deve essere lo stesso adesso non c'è dell'acqua forse qua in giro uuuuh però questa zona è quella che può lasciandarlo di più di questi cioè metti un po' la fatina vediamo che debuff ti da uuuuh uuuuh congelato qui che sei? vuoi vedere come combatte? god spirit ah è stupendo vabbè voglio fare una schia eh c'ha un po' più di più grande poi c'è gli shot guarda il boss si muove abbiamo finito tutti no slave hunter questi non li ricordo abbiamo fatto tutti quasi slave hunter non so ah qui lì oh frate c'è una partita in Fruitwell dove? è scritto lì una shot in blue ah subito vediamo se provo a raggrupparli no magician no spara questi però si questo si chiama che si chiama? c c le le e qua ce ne vogliono 15 però ok dobbiamo fare la base qua ne so ma ora che passiamo ai prossimi i sigili ce ne vuole qua ne so vabbè dobbiamo farli un'altra volta massimo ruolo almeno per te una no per me forse anche tu quando arrivano i prossimi? 20-27? eh mi sa che ogni tre livelli e questi sono 24? 25? 25 eh allora anche io devo fare almeno un'altra due volte a te tu ti addormenti qua e che cazzo ste scala e dove farli o no? quello li facciamo per sicurezza una volta? si si intanto ho visto i costi vicini da me quanti indietro? sei pazzo è pazzo è pazzo un gioco divertirsi è pazzo e appunto ci guardiamo così no no si intendo in generale proprio il sistema è divertente c'è è bello farm anche ad esempio ora no? mi ho fatto e ci sta però abbiamo raggiunto i risultati incredibili se io faccio quattro ore e sto a livello 7 cioè non lo so non lo so è un'altra epoca si è un'altra è come con gli anime che erano 300 episodi e erano massimo 25 se non 12 cosa? è come con gli anime che una volta erano 300 episodi e erano massimo 25 forse 12 si si che One Piece è tuttora la One Piece è quello che ha resistito tutti gli shonen sono finiti è letteralmente l'unico remastered ma eh? è letteralmente è letteralmente è normale che io c'ho la scusa c'ho? è fottuto lo dico sai? è inglese è inglese ma cazzo questi insulti ti vedi per te eh un pochino ormai ti viene che sei lì c'è una gente che mi fa ma perchè metti l'accento british? prima di tutto non lo voglio cioè mi fa cacare e secondo non è che lo metto cazzo è tu metti l'accento napoletano puttana lo metti si non è inscrito si 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 qua va raggruppato come sono? ma direi come una fortuna beh tu fai quelli da lontano e chiunque vede che corre verso di me lo lascia sta una perfetta strategia intanto ormai siamo immuni anche con queste armature abbiamo 13 giorni per goderla mi sa che dopo 13 giorni si 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 proprio no però se riusciamo a salire ci danno l'allarma e ci danno l'armatura sicuramente che sono un po' più deboli di queste quindi comunque riusciamo a farmare efficientemente si ma se già non ci sortiamo adesso devo stare lì a combattere non lo so un colpo gli da 2 massimo 3 essere gruppi dov'era? non lo so non lo so almeno 2 si g volevo rifare le cose normali la persona che ha un certo tempo e lo valuta lo valuta bene una persona con un certo rispetto per se stesso c'è un tipo che online che non seguo su youtube è un youtuber cinese che però fa un po' di content di questo gioco che vorrò giocare tra qualche settimana e però lui gioca a tanta roba tipo sai ha giocato a tanti MMO e anche lui come tutti quanti dice che l'unico MMO che rispetta il tuo tempo e fa una fantasy 412 e non conta non conta come MMO e poi inizia da parlare di questi MMO vecchi di come di fare non rispettare tutto il tempo cioè non avevi una vita per poterli giocare e forse tu non è così ma alla fine no c'è sempre il runescape c'è ma che cazzo è cioè il grind di runescape è qualcosa che non è umano star lì a zappare per salire di livello con la zappa poi devi andare a piccolare per salire di livello con la piccola e lo devi lasciar là nel background devi lasciarlo aperto perché altrimenti non salire di livello anche lì avevamo un certo fascino la grafica il sistema però cazzo devo fare mettere nel background il gioco mentre lavoro cioè un lavoro vero ah si 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 ma non è l'impegno principale nella vita dove ci siamo scambetti di ruolo vedo davanti sei immortale anche tu c'è c'è la pietra che mi toglie l'algo un nemico è andato nella montagna si venuto via avevamo un compito qui vedo cazzo sono già 25 cazzo cazzo eh io no un altro giro un altro giro hai durato quanto? due minuti massimo eh eh e male che sto vicino almeno questi cazzo cazzo abbastanza pomo farm che proprio ci sta seguendo anche lui sta speed rando eh mettiamo noi in gruppo a stupunto eh ho visto un po' scetti un po' lento accettiamo sto figlio di puttana e io non nemmeno 28 sono quindi mi sa che tu devi farti anche un altro giro no no dipende da quanta exp ti manca che se ti manca poca andiamo a consigliare il giro sono due tacche e mezzo cazzo le due tacche e mezzo come si parlava sono due tacche e mezzo mancano due tacche bellissimo c'è sto stronzo che ci ruba poi la roba no no l'amazziamo la metti più ah bisogna fare due l'ho vero ah vabbè mi spacchi il culo non so a meno che skill ho io quando sto utilizzando io non ho skill io eh vabbè hai un'armata solo le volte eh però non ho le skill se tu mi shotti le creature basta è finito ma che tre attacca io tu ignoro non so se è la pratica giusta però è vero è vero ricordo che il summoner era impossibile per entrare a combattere contro ma che cazzo di sì che non sapevo mi ricordo che c'era una discussione su questo proprio cioè che non si sa se dobbiamo ignorare le bestie o meno io non ero il summoner però ricordo che ero cavolo il cazzo cioè che questo è anche il burzo che potrebbe essere che chi si ci 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 fai mettere mano al borsepo vi ho pingiato? no? fuck aspetta aspetta si ma io non so nemmeno quali devo premere vabbè vabbè magari volesti fuggire vero da me vabbè che mazzurata ah 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 non ho skill però mi stunna lui eh t'ha stunnato il drago ah allora aspetta dai è la sua skill che stunna il drago cioè cosa ho detto e vabbè si fa tutto lui allora i ragazzi dicevano skill si si la mia skill è e penso che ho anche le skill che che debaffano, buffano no però devi sti fuggire no no ma sono loro tre ma non ce la posso mai fare no ma è sbagliatissimo tre vocazioni così ma che fanno male cari ma poi non è che posso fare qualcosa eh ma quello riesco la mia vita è proprio andata io mica sono un tank poi poi abbiamo vedete la stessa vita cioè tu 40 hai meno di vita di me beh ma poi non è che hanno messo cioè che ti appare la creatura che hai scelto una volta sola e poi scompare no riescono tre ma con lo stesso danno cioè non è che hai cambiato il danno no più che altro ok ci sta anche vuoi giocare così la però devi rendermi un cazzo di tank a meno che ho la tua stessa vita di resistenza cioè io ti ho dato un colpo sei più resistente di me cioè cioè c'è laggiù la statuetta della resistenza hai capito? assazio ha proprio senso aspetta quanto mi da eeeh creo in questo tempo lo dovrete mettere la scelta poi magari sono io che non ho le skill giuste l'armatura giusta qua dovrei avere il tempo giusto aumenta lo schivare e la resistenza del tuo gruppo nel raggio di 8 metri dell'80% va bene si si diventi mantello dell'invisibilità c'è che cazzo è 80% si 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 vede che vane a Dungeons and Dragons cazzo ma mamma mia Dragon Age ci sto facendo normale ma ogni battaglia di merda di vista di strategico altrimenti ti spaccano il culo ha proprio senso giusto di posizionare il mago lì dietro altrimenti te lo sciolte ma pure se lo fai ti aprono proprio il culo infatti mi sa che lo trovo perché non perché è difficile ma perché cioè devo fa' quello e poi parla tutto è fottuto tempo è un po' fra io perché poi voglio non faccio male a tutte le opzioni possibili perché già ho giocato un poveriggio due ore e mezza a parlare solo a parlare solo mi son guardato dentro e ero così seduto con un dito solo sulla tastiera ero tipo ma che cazzo sto facendo io per lavorare stufu si no ma io per lavorare ma ti leggo un libro cioè che cazzo devo fa' qua e non leggo nemmeno il codex c'è il codex che c'è tutta la scrittura ma pure interessante eh per l'amor di dio però non c'ho come la storia della seconda guerra mondiale si si ma è assurdo semplicemente non è il mio genere immagino ma vorrei anche dire vorrei anche provocire davvero altro poi è strano come scelto cioè posso ottenermi la creatura e posso evocare allo stesso tempo i tre minchioni in prima maniera così cioè sicuramente l'hanno cambiato no si si l'hanno cambiato perché magari non vogliono che tu ti tenga la creatura gigante per troppo tempo perché magari intanto il server cioè pensi che se tutti avessero la creatura gigante in mezzo alla città non vedevi niente ma comunque se mi evoche i sei persone almeno un cazzo lo stesso però no ok ce li hai quando sei in battaglia e mi evoche i sei tre giganti però però ah chiaro vabbè però c'è immagino c'erano le battaglie delle guild eh e cazzo fa tutti i summoner cioè summoner in un'altra stranza ma non pete coglioni anche se siete forti voglio giocare cioè ma quindi c'è comunque un'economia del gioco perché comunque a quanto pare cazzo che bella è le icone cioè quando apri con l'oggetto guarda lì olivier's light road più 23 la vende a 5000 gold la apri e ti salve proprio di potenza anche se non capisci un cazzo di quello che c'è scritto no? però con la scritta rossa così l'icona colorata tutti più lì giù siamo proprio a possenza accogliamo un po' qui sono gli NPC qua che stanno fermi ci riparlavano che attacca nessuno adesso è così che mi ha pensato gu... a me 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 10 su 11 c'era ancora una chissà perché uno stronzo in mene ha spawnato questa volta buf Tu hai inizi ad andare vai Tu E non te lo do E tu aspetta qui Blast me Aspetta aspetta lascia il mio demone vai Andiamo Puoi lasciare nooo E sta roba anche mai visto un Sam E' più bello No via via sposti 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 No vieni qua vieni qua Gli esperimenti Si si lascono però Ti lascio un attimo con un attimo il caricatore perciò Sì Non mi sembra che si stia guadagnando la pagnotta il tuo demone eh No Faccio così Aggressivo Niente Come? Ah viene via Vabbè No no l'hai chiamato via Fa un po' cazzo che vuole Ehm Comunque che bello alzarsi Vedete da lontano sullo schermo Questo tripudio di colori Questa grafica Bellissimo Ma secondo me è vero però E' una vostra nostalgia C'è proprio i colori sono carini E' un magico E' un po' Io ad esempio con World of Warcraft non l'ho giocato Cioè non ho Un particolare attaccamento Non cazzo di niente Però tu vedi World of Warcraft e E pensi Cioè ti trasmette qualcosa di magico Mentre trasmettene Palle pesanti Perchè Oh special è una che non abbiamo fatto Fra Ma che cazzo dici Ah infatti Non abbiamo ucciso quello giusto Di giù Ah eh infatti io ti ho detto Sei partito Non so Eh abbiamo ucciso tipo sei Cioè sarà stato uno giusto Le sei Ma non è che è da un'altra parte No 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 Deci su undici E' qua Credo Abbiamo Se mai dice una cazzata Fighters of the storm truth Eh no In altra parte Madonna cara C'ho ragione Poi controlla anche tu No? Eh ma i miei miei Mi nomi non sono in italiano Perchè ho i nomi dei nemici in italiano Ehm 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 Non credo sia qua Proprio il primo Abbiamo saltato Ma che cazzo si fa? Cioè Ammazziamo tutti Ci vorrebbe una bella Invasione comunque Al valore Questo dici Se non la merita no? Te l'ha dato? No Go Fighter of the storm troops Shadow unit fighter Storm trooper Ok Storm Eh lo stranzo di prima C'è stato qualcuno Non mi sa Direttore incidente Qual'è? Fighter of the storm troops Mi sa Ehm qualsiasi di questi qua Infatti Ehm Troviamo ne ha fatto Cioè In me c'hanno nomi strani Non so C'hai praticamente In questo caso Chiunque di questi qua C'è un combattente adesso Si ma Da me si chiamano Tipo d'assalto Cioè Troppo d'assalto Ah vero Perchè tu c'hai cazzo Tutto in italiano Che pezzo Io c'ho la missione in inglese Ma c'ho i nomi in italiano Bellissima sta roba Eh eh Allora possiamo fare Gratis Qua i soldi Scarsi Eh Io ho un livello Da fare Ah 28 sei Sì ma Sì ma Non ci arrivo il 29 Eh C'è un livello 28 dovrebbe esserci I prossimi Sì c'è Non dico non lo so Ma Sono tre livello Sì Da un cazzo questo Comunque no C'è solo 25 Non ti fa neanche vedere Forse dobbiamo cambiare città Boh Aspetta Cazzo Che dice Allora Speak Finish Eh sì Pensare che dobbiamo Sarebbe anche il momento E' strano che stiamo ancora qua 25 Però come facciamo a sapere dove andare 26 Missione nella storia di velo 29 qua Però noi siamo 28 E' strano Qua c'è la missione 29 della storia Qua c'è la missione 26 Ah Dove hanno due C'erano i scale Prendi sta missione 26 per sicurezza Magari lui ci porta Qui No 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 Qui Qui C'è un puntino Sulla mappa Come cazzo fanno Eh sei sommerso dei punti riscaldativi Non puoi Il puntino è sempre super Ti vedo sempre Nooo Ti devo fare la foto? Se non ci credi? No 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 26 26 26 Parlo infinito Ehm Ehm Una cosa Ok Abbiamo quindi questa qui The square Go to Pion Go to Pion And tell me about the conversation Cazzo è Pion C'è una 29 qua Ok 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 Ah Qua un'altra conversation With him Berco Chissà che cazzo sarà Quello è loro? 27 26 Ma dove? Non lo so No ma dove si è presa? D'al tipo di prima Dove abbiamo parlato Ah sì 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 Questo è quello Ehm Vediamo un'altra cosa Qui è il porto Per ottenere l'arriandrot? L'arriandrot? L'arriandrot L'arriandrot? L'arriandrot 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 I miei soldini Dov'è? Arianrroadgate Ci siamo stati Ah porta No qua non c'è un cazzo Ehm Eh qua abbiamo cittadino Sti cazzo di centauri No no lascia non prenderlo Dobbiamo Andiamo a piedi dai Dove? Dove stiamo? Siamo attivando Andiamo a Ardir Sopra neve tipo Eh non mi ricordo Andiamo a Ardir Vediamo che livello sono i mostri la Andiamo a vedere anche la mappa Andiamo a scurare Sono attorno alla nostra Ragione Cerchiamo poi dei sigilli Ma tu non andai al solito al 29 scusami No C'era una missione al 29 dietro Quanto ti manca per il 29? Un attacco e mezzo Un attacco Quanto è stato un attacco Semplica Ah misau quest'anno La nostra che mi piace Mai Ecco non me la ricordo però eh io si eh lui era 90 si prova? si dai? aspetta ho capito ho fatto un cazzo di danni anche ragazza non ci sono incredibili due favor ma? eh a tutta versione oh my god ho un esternato io ho quanto xp l'ora? ok ben attento vabbè sono stati tu di livello drop, soldi, meno no andiamo via da qua forse era abbuggato, non c'entrava niente lui vediamo no ci sono stato oh frate c'è un valoria per le gilde, si qua si fa la guarda delle gilde per quello ci eravamo venuti a parte che devi passare mi sembra questa è una delle mappe che passavamo se non mi sbaglio per andare a invadere di nascosto valoria si, si, si mamma mia quella era una città incredibile 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 e allora via questa canzone come mai sentite ma perchè avevo annullato le canzoni non lo so è disattivata però c'è quindi dove si va? ora abbiamo visto che questa canzone fa per noi a deserto 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 nezak c'è nezak dragonrod marco ancora non so non so da che parte si va e beh appunto non so che manco vorrei restare dove sei guarda ti follow si se scendiamo son caduto oh shit nooo 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 bello tu ti vedo lì bellissimo sei guarda guarda oh c'è sei qua girato che stai eeeh anche io son morto mi salite di girarti un altro pg undici undici minuti di attesa per il teleport bene scendi dalla poi non puoi neanche dire da spettacolo che stai continuando a cadere no? prova ah bravo a scendere dalla si 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 posso attraverso il muro bravo si vede che sei pro lana e stai stavanzando eeeh bene prendiamo sto cazzo di teleporte eeeh no beh il teleporte inutile andiamo semplicemente sud dove ti conte roda andiamo a vedere che cazzo è se c'è un modo per andare c'è una strada dici proprio sud sud mhm stavo a scrivere nella chat in generale se qualcuno avessi qualche suggerimento su dove andare per livellare il nostro livello per livellare ma mi sa che mi rispondo tutti quanti facendo la storia principale cazzo da simile lasciamo stare si sponda con non vendo a serie si si ma tipo tutti del bot cazzo ma cosa fai? vendi compri vendi compri ma tutti quanti c'è un giuseppe daily 4 set go go giuseppe ngm on giuseppe ah con due s bellissimo guarda proprio che si suono nel gioco ma quanto cazzo costano le miele skill dio santo? si infatti ho speso senza ending me lo conto 150 silver in questo momento mi prendo una schede che rallenta solo mi servirà sicuramente perchè non c'è un duello ho un'altra idea rallento il movimento ma sai che significa proprio vts where to sell no? want to sell ma questo ah want to sell ma poi sono gli italiani sono mister scandalo giuseppe mister scandalo qua su livello 47 quindi mi sa che anche qui giusto di no eh? nel caso vabbè proviamo a vedere con taxball ma poi ci sono i puma di merda ma stai scherzando? ma vaffanculo ma ci shottiamo scusi? non ho visto quanto mi ho dato ah tantissimo andiamo si ho fatto due livelli eh.. si me lo so che non so che non si scappa devi farti! disurverti la missione principale nooo me lo ricordo c'era era U no sicuramente era tarot sicuramente tarot? non so se ecco la sinistra di dove siamo ma poi è valoria non mi sembra che poi ciò nel territorio valoria quando si arriva lui sicuramente meglio quella me la ricordo come ma poi ci sono stato un bel po' come si arriva per lo spawn dal gate non possiamo andiamo dalla mappa a livello 90 e poi giù io proprio mi ricordo i golem no ma ha senso però non ha senso cioè non ci manderebbe mai un gioco io mi ricordo i golem mi ricordo i cazzo di golem e puoi ricordarti un posto a livello 30 forse era nezzak può essere si forse era nezzak stiamo dicendo tutti i nomi delle mappe attorno proviamole tutte no forse sono sulla figura forse possiamo possiamo arrivarci già da ora c'è già da questa mappa non ci siamo andati dove sei? tu dove sei finito? ah sei di gioco vai verso nord est cioè quindi dove c'è ad entiata barrax eh? vai a nord est dove c'è ad entiata barrax non so cos'è nord est c'è un posto schiamato l'unico posto in alto a destra a dentiata e come ci arrivo? come sto arrivando? ah tu vuoi tagliare eh? eh si se no invece ti riusciresti puoi tagliare eh? ah si sei un pazzo scavato ma l'avventura è questa sì sì ti aspetto all'entrata vabbè? se dobbiamo e se ci arrivi no adesso non grande eh? no chiunque facendo le dailies? le dailies per le dailies per le dailies per le dailies ma che non sono le dailies? ah boh però non mi ricordo dove c'erano le dailies in questo gioco eh erano le... no non ho mai visto c'è le sg missione ma non penso ci fosse ancora il concetto di dailies non c'è nemmeno il login reward a un certo punto l'hanno messo verso la... non c'è la terza città dire il 5 su 7 gm on ma pure se ci fosse un on io non ti risponderai mai se spammi e lasciate gm on eh se ho bisogno di che risponi qualcosa di buono eh cazzo eh questi c'è un respawni l'arma finale che voglio finire il gioco oh io sono due fan cazzo c'è fra le... perché di che sei più avanti di me? questo è il numero 1 ah ma che sbagliato strada non so come uscire da quest'arena non so come uscire non so come uscire non so come uscire che vai capro ti aspetto l'entrata eh? eh mi sa proprio di si nooo chiuso dove cazzo sono? nooo godo oh è solo di gargoyle qui gargoyle bellissimi ma è bellissimo futtilo no è bello questo prendiamo un attimo passino eh mi sa che non possiamo passare ci possiamo passare ah sì io sono uscita abbiamo provato da tutto eh sai che ti ho fatto il giro tocca no cazzo è vero anche la mia uscita è sbagliata ah la mia è giusta l'ho trovata però non posso innamorare vabbè fai i ponti di manca per il teleport mondiale 3 minuti totale non è uguale oh sta spadona chi è? c'è un giocatore come una spadona che conoscevo molto bene conoscevo la propria tensione crailla oddio che cazzo è quella? bellissima mai vista? è un boss che non è uguale agli altri proprio una diversa cazzo eh devo vienerla a prendere allora ah si fai vienerla a prenderla è bellissima eh come vengo? praticamente la tua fata va oscura e vestita da gipsy eh non so se posso prenderla niente no 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 forse ho trovato oh va 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 che sto venendo da te è molto romano è un mago vabbè cos'è? io da morto devo prenderla no no più che altro vengo a prenderti vieni verso lì e adesso mi contro di là un contro ma sei dei gargoy tu? si la devi ma poi l'altro sei no no qua si farm qua si farmali brutto eh si un pochino di stack l'ho fatta qui sto camminando in giro supreme commander c'è mi sa che la trovo davvero la musica mi sta rompendo il cazzo e non era anche lì ma l'abbascio da un po' si è la gamba si è la gamba io sento vai fermati uccidiamole perchè mi è uscito aspetta mi è uscito il codice da mettere fra il codice della sicurezza anche a me perchè stiamo allogati da troppo tempo mi sa esatto dischietto ce l'ha il boss qua non lo vedo più ce l'ho mi rosa questo qua dove era... laga li qua vabbè sarà scomparso qua poi si spera che adesso spawn vabbè spawn Eccola lì, Crayla. No, va. Crayla. Vediamo un nuovo mount. Bah, bruttino. La prende? Vabbè, è stupenda. Vabbè, è pazzesco questo gioco. No, fa un po' caccare. No, è stupenda. Che piccolina, però... Eh, piccolina, non mi piacerebbe piccolina. Sarà una veglia grosso. Tutto la mia moto sta... la mia educazione sta distruggendo tutti Oh, com'è che sei più veloce di me? Com'è che sei leggermente più veloce? I soldi fa... La paga più alta Comunque non spanna E qua dritto cosa fa? E qua dritto fa dove eravamo prima Sephiroth Lake Sergeant C'era una zona che avevamo visto però sempre di un lato Questa non sta We go Murdoch now Beerus, where are you? Dillale un po' Sono tuo, io sono io Sono me Sono me, non le voglio più Cari, la bellissima Non so senso C'hai un demon lord, c'hai la fata, c'è sta strega Incredibile Cazzo salti Però il gioco va giocato, secondo me è più lento Cioè di guardarti di dire Finalmente dopo 62 ore di uccidere lo stesso scheletro Ho una nuova evocazione Te la senti più potente Sì 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 Sei libero di giocarlo come vuoi Ma lo dico per te o lo dico per te? No, anch'io lo dico Sei sparito A me deve sempre un attimo pensarci No, infatti sei tornato indietro Quando faccio la... Ah no, siamo ovviamente Sì sì sì, in teoria dobbiamo fare tutto... No, prendiamo il teleport adesso In che senso? Andiamo al teleport, andiamo al teleport più in là che possiamo Della città Vedi qui è zompetto Dobbiamo dare i sigilli però Ah sì? Johnny, seo Io c'ho ancora... Va bene Eh, se è un babbo, io glielo gli ho già dati. Dov'è che devo darle? Eh, qua. Ma forse c'eravamo andati lì. No, noi eravamo andati sotto, non siamo andati sopra, è vero? No, non siamo andati sotto. Ok, andiamo sopra lì. Dobbiamo andare a... Non farmi di più sentire sti giorni. Antica città, penso. Eh, però te... in italiano, mettere l'inglese, c'è crescita. Eh, non si parla come si chiama. Nezark. Si, giusto. Guarda l'antica città. Ancient City Arsq. Si. Ah, per avvicinarci, dici, ok. Si. Buy a master's formula... Eh... Aspetta. Aspetta. Tu devi vendere la mamma. Aspetta. 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 Ci sto pensando. Eccoci qua. Carichino. Te lo carica, guarda un secondo. Mezza. Si. Mi sa che me la ricordo questa. Questa ci ha speso... Ci sono dei belli mosti enormi, mi sembra qua. Giusto. Qua ci sono dei golem, che li voglio subito. Allora... A livello 39. Qua è un grosso. Un grosso. Un grosso. Ah... Sì, qua è al 40. Eh, qua. Sì, sì. E io qua mi sa che ho praticamente smesso di giocare. Che facevo sigilli dopo sigilli. Sampiste. 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 Che stai a fare? Gigante selvaggio. Questo non lo ricordo però. Ah no, sì, è vero. Ah, questi vedi, li ricordavo benissimo questi. Cazze, che erano belli. E però dovevi sempre stare là. The heroes are our champions. Guarda quello come farma. Guarda la gruppa tutti. Allora che sta lasciando tutti. Io ho chiesto nella world chat. Guarda lì. Boh, è strano perché c'era una via di mezzo. O dovevo entrare da un'altra parte della mappa dove sono più bassi. Che sono quelli al 30. 36. Nibelheim. L'hanno chiamato sto posto. Iii, di burtani. Cosa vuol dire? No, è una città. Devi fare una fantasia. da presa da qualche altra parte. Ehm, niente, però. Devi assegnarti. Questi? 125. 75. 75? Vabbè, lei ci sta avvicinando. Eh sì. A meno che non... Sai che però io ho un ricordo che faccio i sigilli anche di... Cioè, over-livellato. Cioè, continuiamo a farmarli. Ah beh, sì. Però magari ero io che ero bambino e non uscivo a capire che c'erano anche altri sigilli da altre parti. Quindi non capivo. Però vabbè. Sì. Dive andare alla città più che altra. Eh, questa deve essere, no? C'è quella a sinistra che... Però qua ci sono tanti scambi di... No, non ci saranno, comunque. Ho un teleport, non c'è n'è stata città di mezzo? Delil57 Mi ho richiesto Mi sembrano un po' spenti Cazzo è 5-7 Searching YouTube Mi ha risposto uno Level up guide Ma non voglio Cioè dimmi tu 4 classic level up guide Ok Certo cerchiamo tu Cerco Cioè addirittura Level up guide Totalmente È un gioco di merda Cioè nel senso La gente ci gioca 39 19 Valorian Valorian Eh però c'è su Valorian Ah eccoci qua D'erio 19 37 Efra ma La guida Ti dice di fare La missione Principale Mamma mia che guida Cioè Tutte le missioni La fa ma io non voglio Fa qui Vuoi fare solo In Sicilia Vabbè C'è proprio da ridere qua Che letteralmente poi Sono le ultime cose Puoi trovare Cioè Aspetta Sì scrivo Sto coglione Ma poi scusami Cioè Noi nella nostra Città No scusi Cioè Non siamo Ma mappa di fianco E Ardir Dove eravamo prima E c'è Sono in mostro del 90 Ma cazzo Non ho fatto Scusami C'è un motivo Comunque per Di ridere le azioni Ma farti Andare Faccio Un momento Immagino Siamo anche Quelli Questo è il cazzo Di livello Come faccio a vedere Di livello 18 Allora qua c'è C'è il portale Dove è sicuro Qua ci sono Le missioni Sì Ah forse ho capito Mark Watt Forse Allora Questa è la guida A parte che sta facendo Praticamente Il Sta facendo Il La storia principale E Però sta Praticamente Nelle zone Che abbiamo Appena pulito Nella zona Cioè sta nella zona Che abbiamo appena pulito Quindi Fino a Fino a 29 Sta lì E quindi mi sa Che poi Dal 30 Vediamo poi Dal 30 Dove va Aspetta Vediamo Dal 30 E poi Ci siamo Sì sì Dobbiamo arrivare Al 30 No Forse ho capito Cazzo è questo Stronzo Cazzo è questo Pezzo di merda No Più imboscato No Sì Ehm Ehm Sì E' Nereswan Lake Dopo dove devi andare Dov'è? È a livello 41 Questo Dov'è? E' questa mappa Però giù Nereswan Lake Cazzo è Ma Nereswan Lake Ah Nereswan Lake Sì Io mi ricordo E io sono tornato Markat Io mi ricordo Che anche qua C'erano i sigili A Markat Però mi sa che mi ricordo male Questo qua Mi ha risposto Mi ha dato un'altra pozione Quest XP Ah Dall'anca Andiamo A fare un'altra Tratta ai sigili Di Johnny Allora Facciamo livello 30 E Vediamo cosa succede Ma mi sa che Bisogna arrivare Cioè non è come In forse Di normale Mi sa Questo qua Nella guida Non mi sembra nemmeno Nei power risici Fa tutte missioni Normali La vita è trasportata Sì perché comunque Allora Sono a Markat O come cazzo si chiama Nel portale c'è Vabbè Playzone Peacezone Scusami Markat Un altro Posto Jesode Che penso sia C'è la nostra città Ardir Che non so cos'è Poi c'è Nezak Come dice Nel portale Portale Sì E' proprio in ordine C'è il lago Nareuswan Che cosa dobbiamo fare Quindi è proprio in ordine No ho sbagliato Ho sbagliato ma Forse Sbagliato Bene Quindi però non so se a livello 30 avremo la possibilità di andare Io provo a fare missioni principali per ora Prima di fare i nuovi 6G Che non ha senso Eh ma ci mette un bot Eh non lo so perché questo fa quello A me tanto di dopo dove devo andare che viene giù Quindi Fina facciamo un altro giro di sigilli e poi dopo vai a fare la missione Ok Arrivato Sigilnozzo 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. è proprio questo retro server? no, non credo, non so è bello, mamma ha una sensazione di nostalgia è abbastanza vecchio, credo che ha alcun carico e cosa stai facendo? no, 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 no sto un aneletto se le vendite perché cazzo viene a guardare sto gioco, ti immagini? tutti i giochi ci sono cioè, seriamente ma poi da due che stanno parlando in italiano ti metti a scrivere adesso si sa anche un po' di italiano grazie ma magari avrebbe più senso abbiamo fatto tutto quando abbiamo tornato? eh? mi chiedevo se abbiamo fatto tutto, dobbiamo tornare incredibile, una live di full story più interazione di altri giochi molto meglio decisamente sì, ma killalo però figa no, lascia a te l'ho colpito, non l'hai ucciso è sempre assurro però anche il bestione è uguale sei fantastico guarda ragazzi poi entri in una live e dici prendi soldi da terra e poi te ne vai ma il tempo al posto eh? ma come quelli di Dario cioè entri blur del 200k aspetta tu è vero cazzo ma che cazzo significa? la mia vita è noiosissima ma non ho una vita però io nemmeno questo non mi vieni di fare queste cose cioè non è nemmeno una questione ma ti fa fastidio ti fa fastidio cambi streamer o giochi tu? sì ma infatti ma poi la voglia di scrivergli ma chi cazzo sono per te? cioè lasciami non lasciami la mia ignoranza lo so ma no poi giù ci ha giocato otto anni fa no? ma magari ti viene da dire ah forse le cose sono cambiate forse i soldi si fanno facilmente non serve che prendi la terra no ma frate devi prendere le soldi da te devi prendere le soldi da te come un minuto vrani hai due volte che gioco no non è vero è incredibile sta roba vabbè le tue creature ma fan cagare a me non piace tipo avere due cose da controllare due cose? da controllare c'è il mio personaggio lo sa c'è anche solo l'idea che c'è un'estensione di me che va in giro fa stile è troppo stupido adesso comunque è un gioco molto attuale che ti metti secondo me adesso è un gioco molto attuale che ti metti un bellissimo podcast da tre ore e ti metti a far razzolare così se avevo un cervello spento così potrò proprio mi mancava l'ultimo sai tu inizi prima senza adesso si che è la scienza finita ti metti questo cervello stiamo per i falada è due tache neanche mezzo neanche mezzo ma due tache ah finire su 25 dai porca prendiamo sta merda quando arriva George guarda metti 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 il busto dell'expo no no secondo me ce la vediamo peggio dopo meglio essere questo guarda va che te le regala ah si si proprio no questo è già oh che cazzo scendi la starcava qui questo a me è un sigillo bello che vicino si va easy altri invece saranno ok altra ordona oggi vado in filo è una live di qualcuno che sta giocando a don't start ci ho giocato una volta sei anni fa vedo che non sta raccogliendo qualcosa di cui non so nemmeno il caso cioè proprio sto guardando la prima cosa che vedo è che non sta raccogliendo una cosa e gli dico senti ma perché no devi raccogliere mi raccomando non è neanche di domandare no devi raccogliere ciao poi un bro bro what's up bro oh me ne manca sempre uno ma che cazzo grazie va tu chiedi 50 centri siamo di nuovo a quattro spettatori uno sono io adesso non ti voglio allora lascia stare però entro escono se uno su tre sono dei bot quegli altri due che cazzo stanno facendo frago dove sei perché sta adesso e perché vuoi morire bella 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 lei bella lei raccolgo dai tu fai quelli da volta o quelli che ti mancano con tre di vita non ce n'è solo vicino sono tutti lontani s o s Ehi, non l'ho attaccato. Amore. Ci siamo quasi alla famigerata doppia digita. Ci siamo quasi alla famigerata 3-0. Tu no. Che ne sai? Ah, non è stata la pozione scena. Pazzo. Ci siamo quasi alla famiglia. Allora, un po' di attaccato c'è un'altra. Sai che posso? A te stanno arrivando, eh? Cosa? C'è il muro. Cioè dai, tu uccidi io luto. Sì, ma se no che sta. Non c'è uno. Ah, non c'è me. Militea, unit fighter. Chiediamo skip off. Unit walker. Togliamo la mona. Ci guarda a fare. Via. Che è visibile? Che è visibile? Che è visibile? C'è qualcuno visibile? Ah no, era... Fatto. Lasciò. Cos'era quello del messaggio sull'abilità? We are happy to announce the new content creator program. No. No. Stai leggendo in massa besta? No. You now have the chance to receive moonstones by creating content for classi. Oh figo, fra. Cosa? Puoi ricevere moonstones e fai content su 4 classi. E noi lo stiamo facendo. For more information visit discord.gg forward slash 4 classi. Eh. Se continuiamo a giocarlo, io... Tanto le metto su YouTube starò. Sì, sì, fai vedere che hai 4... 4 che ti seguono. Beh, 4... Oh, quant'entrò sto facendo. C'è stato. Io le accetto. Eh beh. 4 monete. Su 600 che mi serve. Ma come taglia? Eh. Ma come taglia? Ma hai driftato, hai palissimente driftato. Eh sì. Eh madonna! No, il muro. Mamma mia! Ma non è uno cerrato, ragazzo. Dove ho perdere un'altra volta? A me manca un pezzettino, quindi no. Eh, a me un'altra volta mi sa. Ah. Ahia, ahia, ahia. Ahia, prima. Sì. Va. E' uno e due. E' uno e due. E' uno e due. E' uno qua. Sì, sì. Succede, succede, dai. Eh, succede l'ora prima. Want to buy Armageddon? Prego. Marduk. Voglio dire anche Marduk. Dimmi di più. Dimmi di più. Qua perché non lo raccogliamo, no? Eh? Cioè, raccogliamo la gente? Da me a livello 30 siamo in safe e abbiamo una bella arma. Quello che io non sto attaccando. Cioè... Della mia mount che mi fa le kill. Ancora mount, sì. Io sono un cavallino, luto. Il mio animaletto fa le kill. Sono tranquillo. Rilassato. Eh? Congratulazioni per aver raggiunto il livello 31. Raga, ma... Qua c'è qualcosa che dovrebbe essere aggiustato. 31? Sì, sì. A me non mi è arrivato comunque il livello 21. Sì, non mi è arrivato. No, non mi è arrivato. Mi fa sempre il bambino speciale, dai. Dimenticato la famiglia. Perché te le apro? Vai, vai. Velo 21, ho visto. Te l'ho detto. Ahhhh. Mission war. Vai, sciocco, un puì! Che cazzo vai? Eh no, stavo... Fa le kill, sennò come luto. Oh, ma che è st... Ruby Road. Cosa? C'ho delle armi per un... Per il mago della... Come Pasqua. Putta, putta. No, vabbè, le prendo, dai. Vai, vai, vai. Più veloce che sai. Se ne fanno di inzenza e racchiapparmi non potrai. Un po' di soldine ci fanno, però, così, no? Sì, 66. Belli. O dove va, dai? Dai, raga. Venite, venite. Cazzo, è proprio Black Desert. Ah, è comunque... Black Desert vibes. Sì. Che male, per di tutti. Cheezzo? Cheezzo, madonna cara. Certo che si tipica di cosi, eh? Lootare. Eh? Come? La parte difficile è lootare. Sì, cazzo, ma devi cliccarci solo, no? Sì. Lo penso a portare. Ho preso tutto lì. Ma, più o meno. Ma, più o meno. Il demone che ti spinge, però. Sì, sì, sì. No! È l'ultimo sempre! Cioè, tenta il salto, ma... È arrivato, salto! Ehi, è arrivato, ha arrivato! Sì, sì, sì. Tu sei scendo da cavallo, eh! Cavallo! Eh! Se ha preso tutto il salto, è senza cavallo! eccoci qua io ho fatto il mio lo rompo i pal abbiamo fatto la salita abbiamo saltato la salita è a fare le corse l'ho identicato sono uguali l'ho identico non uccidi questi in caso sono quei fulmini dal cielo no, saranno scrangiati ma qua c'è una tua skill da lui eh adesso va bene tutto però la mia ultima figo, adesso ho una ultima eh certo qual è? eh cazzo ne lo so lo sai tu? quanto è il cooldown della tua ultima? ehm 17 secondi 17 secondi? ok la mia non è la ultima 10 minuti c'ho te l'ho chiesto no, no la stiamo giocando option level sss attenzione io vedo qualcuno davanti qua no perché io mi sto forrezzando sull'altro me la vita oh va come taglia capire le ginocchia ora mi basta la pena attenzione attenzione no cazzo no 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 si si come no come no come no si riuscivo ti ho visto davanti mi ha detto ma che cazzo ha fatto cioè il salto era cioè il salto era felice oh non te le fa riprendere fra a livello 30 oh buon segno buon segno è andata ci faccio consigliare i miei sigilli però eh ne sai che no ah no forse si è che questa qua ci ha fatto accettare no no però sempre io arrivo per primo no è inizio di missione ah no me la fa me la fa dare però non te la fa riuscire eh non l'avevo presa io eh sì eh beh mi sa che si butta no magari si vendono aspetta no non ho perso ne ho tre da vendere ah non puoi vendere questo oggetto è crashato che bello che bello dica Ok, e cos'altro volevo fare? Anzi, volevo aprire questo regalone. Perfetto. Ma se cazzo ce l'hai l'inventario? Non so se puoi testare. Non c'è senso. Ma che ce l'hai in mezzo a sinistra? E dove l'hai in mezzo? Io l'hai in mezzo a sinistra, sopra le skill. In mezzo a sinistra. No, sì. C'ho sempre avuto la... Bello, così che... Ma non ci faccio. Sì, sì, proprio in mezzo. Cioè così, se ti metti, per sbaglio, lo lascia aperto. Ma non ci faccio. Ma non ci faccio. Ehi, ma non ci faccio. L'inventario è vicino alle skill, così se devi spostarlo. Ah, praticamente c'hai le skill piene, c'è. Eh, ti ho detto. Le pozioni. Cioè, io non è che le ho messo le pozioni. Allora, aspetta, cosa voglio fare? Ah, voglio usare anche queste. Queste. Bello. Sì. Buono queste. Allora, aspetta, cosa vuol dire? Eh, vai. Devo vedere le skill. E tutti i miei soldi. Andati. Prova, la roba. Questa fa? in quale entramo? perchè? ci saranno cazzi miei cacchio dar casino allora facciamo un inventario questa merda come un po' il viviamo in quale l'anno Grazie a tutti. 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 Quasi, quasi. Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. Arriva. Oh, vuoi? Grazie a tutti. Allora... Cosa stai... lì, lì... Go... ho accettato? ... ... mi sa che... cosa farete? niente... cazzo... non serve... ... 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 che è arrivata...